Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in questa nuova live. Buonasera, buonasera, bentornati, bentornati in diretta per questa live del lunedì sera, il Monday night, proprio qui su Walk of Sport. E allora andiamo subito con le formazioni perché la partita sta per cominciare. Scusate se sono arrivato proprio adesso, al ridosso della sfida, ma come sapete ero al lavoro, di conseguenza andiamo anche con le formazioni e andiamo anche con la nostra partita che dovrebbe essere interessante anche dal punto di vista fantacalcistico, quindi anche questo è importante per tutti voi che ci state seguendo, cari amici, telespettatori, radioascoltatori e quindi andiamo a mettere anche le formazioni perché oltre che dirvele, ovviamente le vedete in grafica grazie alle nostre partner diretta.it e iScore che vi permettono di vedere tutte le partite con il radar, di seguirle insieme a noi e spero in maniera ottima, quindi mi raccomando lasciate subito un bel like, andiamo a mettere anche il nostro radar, il nostro bot, scusate, lo attiviamo perché ragazzi potete anche entrare nel gruppo di Telegram Fanta Walk per vedere tutti i gol e gli highlights di stasera quando sarà finita la partita, quindi vi consiglio vivamente di entrarci, già vi metto, vi spammo il gruppo di Telegram e ci mettiamo anche la schermata della partita, intanto è cominciata la sfida allo Juventus Stadium tra Juve e Udinese, quella che chiuderà appunto questa ventiquattresima giornata con tante sorprese e soprattutto tanti risultati importanti per le squadre di medio alta classifica e allora andiamo a prendere anche i nostri ragazzi in chat, salutiamo anche ragazzi di TikTok oltre che quelli di YouTube, benvenuti a tutti, mi raccomando subito un sostegno, doppio tap se siete su TikTok like se siete su YouTube, grazie infinite intanto salutiamo il nostro Maktar, scusate ragazzi eh, abbiate pazienza, salutiamo il nostro Maktar, Yuri, Giuseppe, Botti, ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti in questa serata di campionato 4 a 0 secondo Giuseppe finisce, addirittura 4 a 0, tanta roba, tanta roba 4 a 0 ovviamente per la Juventus, intanto andiamo con la lettura delle formazioni e soprattutto il direttore di gara il signor Abisso della sezione di Palermo arbitrerà questo Monday Night coadiuato dagli assistenti vecchi e Mastrodonato il quarto uomo ufficiale è Giuha e al VAR c'è Marini coadiuato dall'Avar dove c'è appunto Aureliano quindi ragazzi iniziamo subito soprattutto con le formazioni come vi dicevo la Juventus che si schiera come vedete qui sopra di me con un classico 3-5-2 la formazione di Massimiliano Allegri con diverse novità soprattutto quella davanti dove vedete c'è Arcadius Milik ma andiamo con ordine iniziamo da Scesni tra i pali con il polacco che ritorna e cerca di non prendere gol stasera anche se sarà difficile difesa 3 con Gatti, Bremere e Alexandro quindi non c'è Danilo per la squalifica e poi c'è appunto il centrocampo formato da Timo Tiwea che ha vinto il ballottaggio con Filip Kostic Weston McKennie, Locatelli, Rabiot e Cambiasso e poi il tandem di attacco formato proprio da Chiesa e Arcadius Milik risponde l'udinese squadra bianco nera ovviamente con il tecnico Cioffi che va a rispondere a Massimiliano Allegri con il modulo a specchio 3-5-2 con Okoyet tra i pali, Naouen Perez, Giannetti e Christensen ovviamente per le defezioni gioca un giovane interessante, un giovane intrigante come Giannetti anche se lui insomma ha intorno ai, già giovane, un giocatore nuovo più che giovane perché Lautaro Giannetti ha 30 anni ragazzi, mi stavo sbagliando con Christensen centrocampo con le due ali, due esterni, Ezibue a destra e Zemura a sinistra e i tre centrali Lovric, Wallace e Samarzic per Eira non c'è ragazzi lo sapete perché è per somma di ammunizioni quindi squalificato così come nella Juventus per somma di ammunizioni, se non ricordo male c'è Danilo e basta, ok sì è Danilo allora andiamo subito anche con l'attaccante Tauwen e Luca a comporre poi il tandem di attacco della formazione allenata proprio da Cioffi e quindi possiamo cominciare con le due squadre la Juventus che attacca da destra verso sinistra in questa prima frazione con la classica divisa strisce verticali bianco nere con inserti e numeri neri mentre invece l'Udinese attaccherà e risponderà da sinistra verso destra con tutta la divisa rossa con inserti e numeri bianchi intanto ragazzi mi raccomando se siete su Youtube immediatamente un bel like e iscrivetevi attivando la campanella perché stiamo arrivando verso 29.300 iscritti mentre su TikTok ragazzi siete in 160, se tutti vi iscrivete cominciamo subito alla grande cominciamo subito con il vostro sostegno doppio tap su TikTok soprattutto perché vi dico così perché se finiamo la live e arriviamo su TikTok a 10.000 like vi dico che dopo ho un'asta di riparazione di una mezz'oretta a 40 minuti con Fantawalk Starks e vi dico la porto in diretta porto quella mezz'oretta però dobbiamo arrivare a 10.000 like mentre su Youtube dobbiamo cercare di arrivare ragazzi ad almeno se volete poi la Champions League mercoledì con la Lazio contro il Bayern Monaco e volete anche l'Europa League giovedì dobbiamo arrivare almeno a 50-60 like minimo se non 80 poi piano piano cresciamo e magari ricerchiamo un po' di più anche di like grazie a voi di Youtube ciao Botti, grande il nostro Yuri Yuri che dice forza bianconeri forza Juve dice Maktar Maktar grazie ancora per la Re-Sub come sempre forza Palermo dice Giuseppe Ferreri buonasera a tutti, grande il nostro Yuri, il nostro top moderatore allora cominciamo con la nostra reaction ragazzi ditemi se mi sentite bene o se è troppo alto il volume di campo perché probabilmente andiamo ad abbassare un po' lo Juventus Stadium che poi dopo è troppo alto per quanto riguarda la cronaca reaction quindi spero vivamente che mi sentiate bene e possiate essere qui con noi per tutta la sfida quindi like e iscrizione per darci una mano e allora grazie mille a user, grazie a Nathalie, Angelo, grazie a Jack grazie mille di cuore a tutti quelli che si stanno iscrivendo allora andiamo ad azzerare anche le donazioni giornaliere andiamo a mettere zero, a cancellare tutti i ragazzi che comunque ci hanno dato una mano fino ad ora tra Youtube e TikTok se volete dateci una mano per crescere ancora di più per farci crescere ancora di più quindi la mettiamo qui sotto di me e chi dona apparirà oltre che a schermo anche qui dove vedete donazione giornaliera detto questo riprendiamo la nostra cronaca reaction perché è una bellissima partita, bellissima sfida tra le due squadre vi vado a dire subito anche le panchine per la Juventus al Carazza a disposizione di mister Massimiliano Allegri Cerri, Diallo, Iling Junior, Kostic, Miretti, Nicolussi, Caviglia Nongeboende, Pinzoglio, Rugani, Scaglia e Ildiz per l'Udinese invece per Cioffi, Brenner, Davis, Ebosele, Ferreira, Cabasele, Camara, Padelli, Pagero, Silvestri, Sasse, Stickvic e Zarraga non sono a disposizione per le due squadre ovviamente per la Juve Danilo, De Sciglio, Ken, Fagioli lo sapete Perin, Pogba, anche lui lo sapete Blaovic per infortunio muscolare è stato diciamo tenuto in non a disposizione in tribuna quindi niente da fare per l'Udinese, Bijol, Deulofeo e Bosse e lo stesso Pereira per sommarie ammunizione Danilo e Pereira sono squalificati detto questa attenzione perché attacca la Juventus siamo sul versante di centrodestra ritorna indietro la formazione bianconera in questi primi sei minuti non c'è stato niente da segnalare per quanto riguarda la partita e allora Federico Chiesa si viene a prendere il pallone all'altezza della tre quarti avanza con la palla al piede cerca una verticalizzazione il muro però proprio di Naouen Perez poi il cross dalla sinistra proveniente dal lato corto della redrigore messo fuori ancora da Giannetti ancora con l'incornata si fa vedere di nuovo la Juventus con questo pallone dentro la redrigore l'incornata di Chiesa e sul primo pallo si era avventato proprio Weston McKennie se non avevo visto male era scusate cambiasso che si era fatto vedere provava uno scavetto attenzione ancora Federico Chiesa lato corto dell'area di rigore serie di finte prova a saltare di netto proprio Naouen Perez bravissimo a ritornare sul pallone poi cade in terra il numero 22 in questo caso vale a dire proprio intanto grazie a Leonardo per l'iscrizione vale a dire proprio il numero 22 bianconero se non ho visto male cioè Timo Tiwea che aveva provato ora poi la conclusione centrale con Okoye che si tuffa sul centro-sinistra e tranquillamente addomestica il pallone aveva provato proprio cambiasso con questo pallonetto ma Okoye gliela tocca quel tanto che basta per cambiare traiettoria che era destinata ai 7 metri proprio dell'Udinese e di conseguenza poi Giannetti la mette fuori ora l'Udinese che si prova a far vedere all'altezza della linea mediana di campo si alza un campanile lottano a due proprio Lucca e Locatelli alla meglio quest'ultimo e ora la Juventus prova a verticalizzare ma c'è già l'Udinese che recupera il pallone con la maglia rossa ora si fa vedere stasera molto freddo a Torino non tantissimo ma abbastanza freddo 9 gradi 8-9 gradi un tasso di umidità intorno al 75% il terreno comunque in ottime condizioni e la squadra sicuramente più tecnica cercherà di farsi valere anche perché la Juventus dopo ieri sera dopo la vittoria dell'Inter deve cercare di trovare continuità nei risultati dopo la sconfitta nel derby d'Italia appunto a San Siro con l'autorete di Gatti ecco qua che stasera deve rispondere all'Inter per cercare di non far concludere diciamo in anticipo i sogni di Scudetto che appunto la formazione bianconera ha coltivato fino a questo momento intanto ragazzi entrate nel gruppo di Telegram si chiama Fanta Walk link in bio ve l'ho messo su Youtube se invece siete su TikTok lo trovate anche lì in bio Fanta Walk perché alla fine della partita ci saranno tutti i gol e gli highlights anzi vi dico la verità alla fine del primo tempo vi faccio un bel regalo a tutti quelli che entrano nel gruppo di Telegram dove alla fine del mese ci sarà anche in giveaway per vincere la maglietta della squadra del proprio cuore personalizzata quindi entrate nel gruppo di Telegram si chiama Fanta Walk ed è gratuito io ve lo consiglio di farlo perché lì parliamo anche di calcio di fantacalcio io lo sponsorizzo sempre in tutte le mie live perché è veramente un fiore all'occhiello come dice il nostro Andrea intanto calcio d'angolo il primo della partita per la Juventus dalla bandiera in alta del settore di sinistra tutti dentro a saltare attenzione ai blocchi provano a staccarsi dai blocchi due giocatori della Juventus parte traversione colpo di testa tentato proprio scusate dall'udinese non era il calcio d'angolo per la Juve ma per l'udinese con i blocchi della Juventus nella propria area di rigore ma comunque si conclude con un nulla di fatto subito una verticalizzazione ma c'è un fischio da parte di Abisso con il primo cartellino giallo fatto sventolare ai danni di Ezibue se non ho visto male quindi l'udinese che comincia subito nei primi dieci minuti con un ammonito si tratta di Ezibue si dà dietro gli dà un pestone a Federico Chiesa che aveva fatto da sponda proprio per il lancio in profondità da parte di Alessandro che aveva verticalizzato all'altezza della linea mediana di campo per Adrian Rabiot e anche per lo stesso Cambiasso che intanto aveva fatto il movimento a rientrare e a dialogare proprio con il francese attenzione era la Juventus perché si è ricominciato a giocare con questo pallone in verticale basso per Federico Chiesa che non riesce a fare una sponda imprecisa proprio per lo scatto anche del suo compagno di reparto cioè vale a dire Cambiasso o meglio di reparto di squadra più che di reparto intanto poi c'è un giocatore a terra Abisso decide di fermare il gioco si tratta di Naouen Perez che si era affacciato in avanti come vi dicevo in precedenza in zona offensiva no era a difendere scusate la propria area di rigore e viene messa a terra proprio da Federico Chiesa che involontariamente gli dà un pestone quindi calcio di punizione per l'Udinese se non ho visto male guardiamo se Abisso ha decretato il fallo ha fischiato il fallo oppure ha fermato solamente il gioco e la palla verrà concessa di nuovo all'Udinese che era in appunto un possesso di palla allora intanto andiamo a leggere un po' di commenti visto che il gioco è fermo ciao Trompoposo benvenuto in live con questo scioglilingua secondo te come finisce con gol e di chi Mangiot ora questo se no avevo la palla magica avevo la sfera magica ti dico che secondo me potrebbe finire o di misura 1-0 o 2-0 per la Juventus se invece l'Udinese riesce a segnare finisce 1-1 guardiamo guardiamo se avrò ragione e guardiamo soprattutto per i tifosi della Juventus toccatevi perché magari sperate giustamente anche in una netta vittoria per quanto riguarda la vostra squadra per cercare di continuare il sogno scudetto e di tallonare ancora l'Inter che vi ricordo ha una partita da recuperare il 28 di febbraio proprio contro l'Atalanta intanto voglio ringraziare chi ci sta followando anche su TikTok da Carla Marino Lollo Big Luis Svapo Jack Max1975 Santina Mario De Master grazie ragazzi che ne pensi di Roma Inter di ieri Roblox ne parleremo alla fine del primo tempo ora andiamo con la cronaca reaction ciao Santina benvenuta in live se vincete oggi lo scudetto è vostro dice Alfo Romi poi segna Chiesa secondo te Teschi guardiamo Chiesa sicuramente sarà uno dei più pericolosi e vorrà farsi rivedere anche perché come vi dico sempre a giugno ragazzi c'è gli europei ci sono gli europei quindi i giocatori più importanti delle varie nazionali non solo del nostro campionato ma di tutti i campionati mondiali soprattutto europei si vorranno far vedere dalla propria nazionale di conseguenza occhio soprattutto ai nomi più altisonanti tipo Federico Chiesa attenzione è proprio lui ora a farsi vedere sul lato corto dell'area di gore dopo che la Juventus ha rubato un pallone all'altezza della trequarta in cross è messo nel mezzo ma c'è una attenta Udinese a mettere fuori il pallone attenzione ora lo scatto di Tauven sul settore di destra perché la palla si stava perdendo palla vagante proprio vicino al fallo laterale anzi era Lovric che scatta con tanta veemenza e poi ora c'è il fallo laterale guadagnato proprio da Udinese sulla catena di destra il pallone è stato messo fuori è allontanato da Gatti Lovric va subito a parlare con Abisso che poi appunto va a fare una partaccia a Gatti che aveva allontanato il pallone volontariamente visto che la Juventus si doveva praticamente si doveva ritrovare doveva rientrare tutta con la linea difensiva di conseguenza esperienza per quanto riguarda ovviamente il numero 4 Federico Gatti classe 98 lui vale già intorno ai 18 milioni è un giocatore che è nato e cresciuto a Verbania in serie D poi è passato alla Pro Patria dove ha fatto due anni in serie C poi Frosinone in serie B e poi il grande salto definitivamente al Juventus di cui è appunto proprietaria del cartellino per lui due anni fa nella stagione 21-22 ovviamente si parla di Federico Gatti 35 presenze 5 gol e 2 assist in cadetteria che ha permesso appunto al Frosinone di essere protagonista fino alla fine poi come sapete quello che è successo è che un anno dopo il Frosinone è salito in serie A e allora andiamo in cronaca reaction perché c'è la Juventus ora che si guadagna il primo calcio d'angolo della partita uno l'aveva guadagnato l'Udinese va Federico Chiesa proprio dalla mezzaluna bassa del settore di sinistra tutti dentro a saltare anche Rabiot preso in marcatura proprio da Naouen Perez se non ho visto male attenzione parte lo spivente teso e tagliato dentro l'area piccola attenzione qui c'era una smanacciata di Okoye che poi se la va a prendere con i propri compagni di squadra ma il pallone poi è stato toccato da Arkadius Milik se non abbiamo visto male l'ultimo a toccare proprio il polacco che aveva tentato il colpo di testa no era Milik sì Okoye la tocca con il pugno ma secondo l'arbitro sì l'ultimo tocco è di Milik che era andato ad infastidire l'uscita del numero 40 nigeriano e allora si riprenderà con il calcio di punizione per la per l'Udinese all'interno della propria area di rigore e allora si ricomincia proprio lì visto che Milik ha caricato il portiere mi serve un gol di Milik dice Dennis che ne pensi di Ajax Liverpool del 1975 grazie buon lavoro Walter grazie mille per essere qui con noi grazie a Giuseppe Ruberto grazie a Walter Mancin grazie a Daniele Jasmine Omar Noah grazie mille per il follower grazie a Maria Giannini 24 grazie ragazzi per tutti quelli che ci stanno seguendo su TikTok e anche quelli che ci stanno seguendo su YouTube grazie mi raccomando arriviamo ad almeno 70-80 like su YouTube come vi dico sempre per portarvi mercoledì e giovedì la Champions e l'Europa League mercoledì Lazio Bayern e poi giovedì c'è tutta l'Europa League e la porteremo live qui con voi mi raccomando stesso discorso per i ragazzi di TikTok perché se volete dopo alla fine della partita stare con noi una mezz'oretta 40 minuti per l'asta di riparazione Fanta Walk Starks con i ragazzi di Starks vi ricordo che appunto dobbiamo arrivare a 10.000 like su TikTok buonasera spero in 1-0-0 dice Leonardo Cuoco Goofy non vi sento dice Yuri ma Andrea non c'è stasera no Yuri stasera Andre non ci sarà ci sarà per mercoledì e giovedì per le serate di Champions e di Europa League intanto attenzione calcio d'angolo per l'Udinese guadagnato ancora sul settore di sinistra minuto numero 16 anche qui dentro tutti a saltare soprattutto le torri per la formazione friulana attenzione però battuto corto proprio da Samarzic se non ho visto male poi il pallone all'altezza del vertice alto per il 26 Taouven ancora il cross attenzione alla palla che spiove in area di rigore e c'è ancora un tocco vale a dire di Gleason Bremer Luca plaude ovviamente l'intervento del direttore di gara che segnala di nuovo il calcio d'angolo il secondo consecutivo guardiamo l'ultimo tocco di Adrien Rabiot con Luca che si era fatto vedere sul palo più lontano allora terzo calcio d'angolo anzi quarto calcio d'angolo per quanto riguarda la formazione allenata da ciò fino a terzo calcio d'angolo avevo ragione al minuto numero 17 battuto ancora corto si fa vedere il 29 dalla bandierina bassa ancora vertice basso poi c'è lo scambio con Taouven che si abbassa prova a crossare nel mezzo attenzione colpo di testa di Adrien Rabiot a mettere fuori uno spiovente molto velenoso all'interno dell'area piccola addirittura non si era mosso Wojciech Czesny allora si combatte ancora all'altezza della tre quarti di centro-destra con l'Udinese che ritrova il pallone ritrova la sfera e si fa vedere ancora la formazione in completo rosso questa sera con la formazione di Cioffi ora che sembra essersi sbloccata ma Weston McKennie ritrova il pallone e si fa vedere ancora la formazione bianco-nera con Arcadius Milik all'altezza della semicerche di centro-campo dribbla un uomo ne dribbla due scarica tocco corto proprio per Cambiasso e allora ora si fa vedere la Juventus con Gatti all'altezza della linea mediana di campo però l'Udinese fa buona guardia ed è tutta dietro la linea del pallone nella propria mente a campo e allora ricomincia la Juventus sul versante di sinistra con Weston McKennie tocco corto per Cambiasso che ritrova ancora lo statunitense poi il pallone per intanto Adrien Rabiot che si fa vedere sul vertice basso della regola ancora Weston McKennie centralmente Cambiasso giro palla della formazione bianco-nera che ora ha voglia di trovare un gol che sbloccherebbe la partita ma l'Udinese veramente fa tanta densità all'altezza della tre quarti reparti molto corti non si trovano spiragli con Weston McKennie ora che si allarga sulla sinistra gioca molto in ampiezza poi tocco corto per Cambiasso che gli dà il pallone di ritorno centralmente lo statunitense per lo scatto di Gatti all'indietro per Locatelli sulla destra per Wea vertice alto doppio passo ancora il pallone per Locatelli la palla dentro messa nel mezzo ancora serie di batti ribatti prova la conclusione svirgolata Arcadius Milik anzi Gatti scusate con il mancino palla che si perde in rimessa dal fondo ma ve l'ho raccontata dettagliatamente proprio per farvi capire quanto la Juventus debba stare lì a ragionare a cercare passaggi a cercare spazi e che l'Udinese non gli concede ovviamente quando siamo giunti al diciannovesimo minuto per il momento le due squadre sono molto spente tra tutte la Juventus che non ha fatto niente di eccezionale in questi primi venti minuti di gioco l'Udinese per il momento molto contenuta e molto ordinata nella fase difensiva e in fase di non possesso allora andiamo a leggere un po' la chat 1-1 primo tempo e 2-2 finale dice Giuseppe Ferreri forza Juve dice Mauro Salvato 1-X dice Mauro se Inter vince con il Lecce Salerno e Atalanta è fatta per la seconda stella dice Daniele Beretta ciao Nicolás benvenuto in live per me finirà od 1-0 2-1 per la Juve che programma televisivo posso vedere la partita è su Sky Giovanni Franceschini è su Sky da arriviamo a 200 like walk 10 spanni sopra i cronisti di Dazon non perché sono di parte ma questo ragazzo merita davvero come cronista Yuri ti voglio bene grazie mille veramente per il sostegno e per le belle parole vince dice su TikTok mi serve un assist di Cambiaso Gatti ha piotto gol che gol la fai Inter Atletico Madrid si Roblox vorrei fare tutta la Champions e anche le partite di Europa League e Conference assolutamente noi l'abbiamo sempre fatte e soprattutto cioè le voglio portare perché sono partite interessanti importanti e si comincia con gli ottavi di finale spero un bel voto di Locatelli così posso vincere la finale di Fanta Champions forza 9-8-8 dice Giuseppe 5 più sta partita non deve segnare Milik è un gol dell'Udinese contenti tutti ah non deve segnare Milik è un gol dell'Udinese contenti tutti dice Angelo Iacolare grazie mille SB23Pro per il follower mi raccomando se siete appassionati di live reaction consiglio di Fanta Calcio mi raccomando ragazzi di TikTok e anche di YouTube lasciate like e iscrivetevi vi aspetto sul nostro potete vedere tutti i gol e gli highlights di tutte le partite alla fine ovviamente della sfida e poi lì parliamo di Fanta Calcio di Calcio oggi è venuta fuori anche la notizia degli infortunati perché anche lì riportiamo le notizie degli infortunati soprattutto per voi Fanta allenatori Calabria che si è fatto male e quindi probabilmente potrà saltare anche la sfida di domenica prossima per quanto riguarda il Milan comunque ci sono notizie anche per tutti gli altri infortunati e non solo parliamo ci sono tanti Fanta allenatori e in più c'è questa possibilità appunto di vincere la maglia della squadra del proprio cuore scusate tramite giveaway attenzione a Federico Chiesa che prova uno scavetto era praticamente posizionato al limite dell'area di rigore sul centro-sinistra ha tentato un tocco da sotto per cercare di trovare nel cuore dell'area di rigore Friulana uno tra appunto Milik e Rabiot che si erano fatti vedere ma niente da fare il pallone per Okoye con la maglia numero 40 grazie mille Yuri veramente gentilissimo per queste belle parole tifo Inter e mi faccio una domanda perché se esce Sommer e prende la palla danno rigore ma se esce Okoye e prende la faccia di Milik non fischiano che classe arbitrale Angelo ti dico la verità devo riguardare il replay però Sommer lì prese la faccia in pieno con il pugno qui invece Okoye ha toccato il pallone e la sfera è stata poi sfiorata da Milik con i capelli però non l'ha preso in faccia pieno è andato poi a vuoto se ho visto bene poi devo riguardare comunque il replay attenzione perché ora la Juventus sembra aver preso un po' campo e aver preso anche un po' piccolo con questo traversone dentro l'area piccola sul primo palo dove ci si avventa immediatamente Arcadius Milik che viene anticipato però dalla grande uscita con i pugni di Okoye e allora il pallone viene messo in calcio d'angolo intanto ringraziamo anche il nostro Roblox che lo andiamo a mettere con una rosa grazie Roblox ti vado a mettere qui tra le donazioni Roblox Ediz grazie mille grazie di cuore gentilissimo per il tuo sostegno Roblox ti metto qui eccolo qua intanto calcio d'angolo per la Juventus dalla bandiera in una bassa parte lo spivente ti si è tagliato nell'area piccola ancora la palla che danza vicino a Okoye che era lì in agguato e soprattutto aspettava un'incornata da parte di un giocatore della Juventus che non è arrivata si erano fatti vedere tutti dentro a saltare soprattutto i difensori centrali ora Timotiwea prova una conclusione dai 20 metri per zona centrale con il destro palla che si spegne abbondantemente sopra la traversa e tra la curva dei tifosi Juventini intanto stanno facendo rivedere di nuovo il replay per il cross di Federico Chiesa il taglio di Milik ma Okoye in qualche maniera con i pugni la mette fuori allora lo ha preso in faccia come lo sfioracchia dopo lo devo vedere dopo lo rivedrò alla fine del primo tempo lo vado a rivedere intanto grazie Roblox vado a rivedere così almeno ti dirò quello che ne penso io perché non hanno fatto rivedere il replay per il momento di conseguenza io ho visto non ho visto un colpo forte ma ho visto un colpo diciamo un cazzotto in aria con Okoye che sfiora Milik poi lo vado a rivedere ciao Alessandro Esposito benvenuto in live grazie mille intanto a King Arrow grazie a AC Milan grazie a Hulk grazie a Salvo e Alda grazie mille a Pavlo grazie ragazzi per chi si sta iscrivendo come ti spieghi le panchine di Ebosele uno dei migliori nell'Udinese probabilmente avrà avuto anche qualche fastidio fisico perché Ebosele te mi stai dicendo o Ebosse perché Ebosele il Livoriano è in panchina probabilmente o anche per scelta tecnica ci sta che magari entra nel secondo tempo sicuramente nelle ultime partite ha sempre giocato e ha giocato anche abbastanza bene però magari ha fatto scelte tattiche cioffi guardiamo un po' io ti fò Inter e Fiorentina perché sono toscano grande Roblox grandissimo dai forza Udinese dice Giulio Guerra ciao Giulio ciao Daniel ciao Daniel Ventivoglio ciao cosa ne pensi di Federico Chiesa penso che sia un grande campione che se n'è andato dalla Fiorentina e tra virgolette è giusto che abbia fatto questo percorso visto che non ci voleva più stare alla Fiorentina quindi va bene così però gli auguro sempre tutto il miglior periodo attenzione c'è il vantaggio dell'Udinese il vantaggio dell'Udinese al 24esimo clamoroso con questo tentativo di cross dalla destra sul palla inattiva e la sfiora solamente la difesa della Juventus e la sfera che finisce lì nell'area piccola un batti e ribatti con Giannetti che si trova in agguato e riesce a ribadirla in porta vantaggio della formazione bianconera ma quella ospite con questo traversone di Samarzic all'interno dell'area di loro e la spizzata solamente fortuita da parte del 31 vale a dire proprio Christensen poi Alexandro che si trova di fronte a Scesni che intanto si era tuffato sulla propria destra e qui Alexandro che sbaglia ai tempi di marcatura e regala poi il pallone a Giannetti che come un falco e soprattutto molto fortunato riesce a ribadire in porta con il sinistro Udinese in vantaggio al 25esimo minuto cambia tutta la partita e come vi dicevo attenzione perché se segna la Juventus e passa in avanti la formazione ospite probabilmente la formazione di casa dovrà rispondere subito presente perché se finisse con questo risultato e con la Juventus se la Juventus venisse sconfitta anche questa sera sarebbe la seconda sconfitta consecutiva e soprattutto andrebbe a meno 7 dall'Inter che avrebbe poi il 28 di febbraio addirittura un match point per allungare ancora di più anche se ci saranno due giornate nel mezzo tra il recupero di Inter Atalanta però l'Udinese passa in vantaggio e a livello anche storico la formazione friulana è sempre una squadra molto ostica per la Juve vi vado a dire anche i precedenti tra le due squadre anche se la formazione di casa è in vantaggio in questo bilancio complessivo in 108 partite la 108esima possiamo dire così è quella di stasera in 108 partite giocate in Serie A 72 vittorie della Juventus 13 vittorie dell'Udinese e 22 pareggi quindi questa sarebbe la 14esima vittoria della formazione friulana il miglior marcatore di questa sfida è Paolo Di Bala con 11 reti il secondo è Jon Hansen attaccante della Juventus di vecchia data e poi nel podio come terzo come medaglia di bronzo c'è un certo Alessandro Del Piero con 8 reti quindi questo è quanto è passata in vantaggio quindi la formazione allenata da Cioffi guardiamo se risponderà subito la Juventus che vuole cercare di trovare immediatamente il pareggio anche se non sarà facile ora riparte subito Alessandro dall'altezza della linea mediana di campo poi si fa vedere il numero 27 Cambiasso apertura per Federico Chiesa che gioca in ampiezza vicino al fallo laterale punta all'uomo attenzione ora ancora si cercano e si trovano Cambiasso e Chiesa ancora Cambiasso però che non gli dà il pallone di ritorno lo scavetto a rimorchio Bergatti che calcia teso forte però centrale Okoye si accartoccia fa su il pallone grande azione della formazione di casa e gran conclusione di collo pieno da parte del numero 4 difensore centrale braccetto di destra della squadra allenata da Massimiliano Allegri Okoye però svede sbucare in mezzo ad una selva di maglie bianco nere e rosse proprio la conclusione del difensore che si era portato in avanti in questa azione offensiva è ben congegnata da parte della Juve però non finalizzata perché la conclusione è forte ma centrale ogni volta che Alessandro gioca la Juve perde Alessandro ragazzi ha fatto un po' una marcatura un po' strana possiamo dire così su Giannetti e anche su se non ho visto male si trattava di Lovric e Taouven che si erano portati sul pallo più lontano ciao mi chiamo Lorenzo ciao Lorenzo benvenuto in live per favore mi puoi salutare ciao Alessandro benvenuto in live ciao Botti grandissimo Wolkan l'Inter hanno dato un rigore contro per imprudenza non per gioco pericoloso quindi le due uscite di Okoye non erano imprudenti non voglio fare polemica perché è una vergogna ma Angelo ti dico la verità devo rivedere perché non voglio diciamo dire cose inutili e pareri inutili senza aver rivisto le immagini intanto attenzione perché qui era scivolato Alexandro e il pallone era lungo verso di lui poi fortunatamente la sponda di Lucca non arriva a destinazione ora si distende la Juventus con questo contropiede Chiesa per il 27 cambiasso entra defilato sulla sinistra c'è la conclusione non riesce a toccare il pallone Arcadius Milik praticamente cambiasso si incunea da zone laterali salta un uomo ne salta due a concludere sul palo più lontano e Milik arriva un po' in ritardo e soprattutto la conclusione che sarebbe terminata fuori non riesce il polacco a ribadire in porta applaude comunque lo squillo e soprattutto la giocata del numero 27 che aveva provato la conclusione e non il passaggio quindi sarebbe diventato altruista in maniera involontaria cambiasso che aveva concluso a porta aveva tentato di incrociare sul palo più lontano perché tifi io sono un tifoso della Fiorentina sono un tifoso della Viola Allegri out basta dice Lori Giannetti ha segnato Giannetti difensore centrale nuovo stasera per quanto riguarda ovviamente sia il fantacalcio sia il nostro campionato primo gol in Serie A vincerà la Juve Peppe io ho detto che se la Juve prendeva gol rischiava addirittura di finire in pareggio uno a uno per i tifosi giuventini spero di sbagliarmi ma è una partita molto ostica molto difficile da affrontare perché c'è un Udinese veramente messa molto bene e soprattutto bella quadrata fino a questo momento con i reparti molto corti con anche gli spazi che non sono disponibili ovviamente soprattutto per gli attacchi della Juventus che è costretta a ripartire da dietro come in questo caso con Gleason Bremer che si fa vedere come ultimo baluardo all'altezza della linea mediana di campo avanza palla al piede l'Udinese tutta dietro alla linea del pallone il passaggio per Chiesa che non riesce a controllare il pallone gli fa ok al difensore brasiliano ma diciamo di ok non c'è niente nel passaggio nello stop e quindi rimessa laterale per l'Udinese sul versante di destra come vedete qui dal nostro radar e ringraziamo iScoreDiretta.it e le nostre partner del canale che ci permettono di portare la cronaca reaction con questa grafica soprattutto speriamo sia di vostro gradimento vi ricordo di entrare nel nostro gruppo di Telegram vi faccio un bel regalo a tutti voi per chi entra in questo momento nel gruppo di Telegram che si chiama Fanta Walk ragazzi c'è la possibilità veramente di parlare con noi e mi raccomando vi dico non uscite dal gruppo di Telegram perché se uscite dal gruppo di Telegram venite bloccati dal bot che è presente per almeno 3, 4, 5 mesi perché c'è questo bot è fatto apposta per evitare l'entraesci diciamo in maniera così caotica quindi occhio non uscite ragazzi perché poi mi venite a dire ah ma posso rivedere gli highlights a fine partita posso parlare con i ragazzi posso mandare la formazione su Telegram no ragazzi perché poi c'è il bot che vi blocca e vi banna io non vi posso più sbloccare ma vi sbloccate dopo 4, 5, 6 mesi quindi mi raccomando ragazzi silenziatelo se volete rimanere qui volete rimanere con noi gruppo di Telegram aperto a tutti dove vi ricordo per l'ultima volta lo dico prima della fine del primo tempo si parla di calcio di Fanta Calcio e ci sono i goal e gli highlights sia di questa partita di stasera a fine gara e tutti i goal di tutta la settimana di tutto il weekend perché ieri c'erano tutti i goal delle partite di ieri sera ovviamente quando sono finite le gare le carichiamo uguale per venerdì e quindi sabato stesso discorso entrate perché chi non ha Sky o Dazon c'è il nostro gruppo di Telegram che vi permette oltre che di parlare appunto di Fanta Calcio e se siete Fanta allenatori di avere tanto aiuto e tanto sostegno oltre che magari venite a bestemmiare e venite anche ad indiavolarvi ad arrabbiarvi nella nostra chat perché magari vi ha segnato qualcuno contro avete preso un'espulsione insomma qualsiasi cosa la conclusione di Rabiot con i pugni gli dice di no Okoye aveva tentato questa questo tiro veramente da casa sua Adria e Rabiot da posizione di centro-sinistra si posiziona con il corpo e soprattutto mette il pallone sul mancino calcia di potenza ma centrale e quindi si distende sul centro-sinistra proprio Okoye che gli dice di no attenzione allo scatto poi ora dell'Udinese lancia in profondità perché si fa vedere Zemura che non riesce a controllare il pallone rimessa laterale guadagnata dalla Juventus vicino alla linea mediana di campo sempre sul corridoio di destra e allora eccolo qua di nuovo il replay di Adria Rabiot che si mette il pallone sul mancino conclude forte e sul centro-sinistra e quindi abbastanza di facile lettura per lo stesso numero 40 portiere nigeriano dell'Udinese che stasera comunque si sta facendo vedere con alcune situazioni alcune uscite e anche qualche parata interessante intanto grazie a Totta grazie ad Alessandra grazie a Daniele Tognari grazie anche a Marco Bonamano grazie mille ragazzi di TikTok per il vostro follower siete in 240 su YouTube siamo in 120 mi raccomando lasciate like e iscrivetevi per essere sempre con noi cambia arriva sulla linea di fondo punta l'uomo prova a crossare nel mezzo ma c'è la chiusura proprio di Neuven Perez e calcio d'angolo per la Juventus dalla bandierina bassa del settore il versante lì sinistra si andrà al minuto numero 34 con questo spiovente all'interno dell'area del coro è bianco-nera ma della squadra ospite Forza Udine dice bro Allegri a casa dice 1-92-0-10 lo so però qui vogliamo una chat pulita se no Walt mi frusta no Yuri lo so che sei molto bravo a moderare quindi mi fido di te battuto corto attenzione c'è Federico Chiesa che prova con il destra a disegnare una parabola sul palo più lontano troppo lunga però per tutti e la sfera che va a concludersi sui tabelloni pubblicitari al di là della linea di fondo e quindi al minuto numero 34 scoccato in questo momento allo Juventus Stadium si riandrà appunto con il pallone tra i piedi di Okoyer con questa rimessa con gli scarpini del portiere nigeriano dell'Udinese sto perdendo la schedina dice Matteo Annalisa benvenuto in live come si chiama il gruppo Fanta Walk te lo scrivo ma lo puoi trovare comunque in descrizione Fanta Fanta Walk gruppo di Telegram aperto a tutti gratis dove vi ricordo ci sono consigli di Fanta Calcio sapete quando siamo in live quando escono i video in più potete parlare con tutti i Fanta allenatori perché vi date una mano ci date una mano e in più ci sono gli highlights e gol a fine della partita quindi per chi non ha Sky o Dazon ragazzi è una salvezza anche il nostro gruppo di Telegram perché oltre che parlare di calcio e di Fanta Calcio ci sono appunto gli highlights quindi io vi consiglio di entrare a tutti nel nostro gruppo Fanta Walk link in bio lo trovate in descrizione se siete su YouTube lo trovate in bio se siete invece su TikTok dove trovate tutti i miei social anche Instagram e dove trovate Facebook quello che vi pare intanto calcio di punizione guadagnata dalla Juventus con l'Udinese che stava cercando di uscire palla al piede ma il passaggio è sbilenco e bravissimo qui in questo caso se non ho visto male Locatelli a finire a terra a guadagnarsi il calcio di punizione all'altezza della tre quarti siamo per zone centrali lontani dalla porta difesa da Okoye siamo intorno ai 40 metri 38-40 metri e si va a posizionare il pallone no era Milic a prendersi il calcio di punizione con Lucca che non è riuscito a rubarglielo e quindi il direttore di gara Abisso va a fischiare il fallo e allora seguiamo questo calcio di punizione intanto Elvira mi raccomando niente parolacce esatto esatto bravissimi bravissimi poi tifo la Fiorentina sono un tifoso della Viola ragazzi sei bravo come telecronista dovresti puntare più in alto grazie Antonio Monteleone grazie di cuore intanto calcio di punizione messo dentro sul palo più lontano prova una sponda gatti ma diciamo il colpo di testa è sbilenco e solamente spizzato in fallo di fondo c'è stato un duello fisico con il capitano della formazione friulana vale a dire Wallace che è andata a saltare in anticipo rispetto a scusate a Federico Gatti che apre il gomito quindi c'è un calcio di punizione fischiato da Abisso anzi no anzi no è rimessa dal fondo l'ultimo tocco è proprio del numero 4 della Juventus e quindi niente punizione grazie mille Ale Bella mi ripeto sempre vero benvenuto in live Roma Inter Genova Atalanta è stato uno spot per il calcio Fabio è vero verissimo ragazzi sta dominando la Juve almeno il pareggio ci sta no ora sta dominando la Juve allora sì sta facendo la partita sicuramente sono d'accordo però dominando è un parolone l'Udinese sta veramente giocando bene e molto ordinata ciao forza Juve subito like grazie Lucas Clivan benvenuto in live grazie Mico ciao Mico Grossetano ciao Andrea benvenuto in live come stai rieccomi grande Alessandro Milic e Alessandro dice 104 in che senso grazie a mi ripeto sempre per il follower benvenuti a tutti mi raccomando vi ripeto a chi sta entrando su TikTok se volete anche l'asta di riparazione una mezz'oretta dopo che è finita la partita che la farò subito dopo la gara dobbiamo arrivare a 10.000 like quindi 10.000 like all'obiettivo di stasera siete in 220 su YouTube invece dobbiamo arrivare a 70-80 like per portarvi mercoledì e giovedì Champions ed Europa League vi ricordo che mercoledì giocherà Lazio-Bayern-Monaco alle ore 21 e giovedì ci sono tutte le altre Roma-Atalanta-Milan quindi ragazzi state con noi e mi raccomando attenzione perché c'è subito Federico Chiesa che tenta una sortita offensiva e soprattutto si fa vedere prova una verticalizzazione sbagliata è letta molto bene dall'Udinese ancora si distende attenzione perché c'è un 5 contro 5 con Lucca che porta palla attenzione scusate a Toven che porta palla arriva centralmente al limite dell'area di rigore fischiato fallo e giallo per Bremer giallo per Bremer benissimo io ce l'ho al fantacalcio il fantacalcio storico fantastico benissimo calcio di punizione per l'Udinese per zona centrale Bremer che fa fallo di ostruzione su Lucca no su Samarzic perdonatemi su Samarzic e quindi calcio di punizione ammonito Gleason Bremer salta il prossimo turno perché era diffidato l'unico diffidato della Juventus benissimo ragazzi doveva prendere solamente 6 e mezzo stasera Bremer si fa ammonire al 38esimo minuto io perdo la partita nello storico per 3 a 2 benissimo bravissimo Bremer ma va a cagare vai tanto è sempre così è sempre così ragazzi non c'è mai una gioia soprattutto nel fantacalcio storico tanto è così va bene ragazzi basta non voglio lamentarmi perché tanto chi si lamenta poi non va da nessuna parte ho lasciato in panchina uno come bastoni e primo sostituto anche il Sharawi a centrocampo quindi mi merito di perdere 3 a 2 mi bastava un 6 e mezzo di Bremer e invece neanche 6 neanche 6 sta prendendo 5 e mezzo perché stava prendendo 6 più l'ammunizione va bene ragazzi niente da fare allora riprendiamo con la nostra cronaca reaction perché c'è un calcio di punizione interessante da posizione interessante sulla mattonella giusta per Samarzic ma anche per Tawen attenzione che si posiziona e si mette il pallone giù 4 uomini in barriera per Cesni più il coccodrillo guardiamo chi va in porta va proprio Tawen con il sinistro la palla che è simile all'incrocio dei pali minuto numero 39 siamo entrati nel 40esimo e la Juve ha rischiato tantissimo su questa punizione di Tawen che gira benissimo ma non si abbassa sotto l'incrocio e quindi palla sul fondo cosa ne pensi di questa partita Daniel penso che sia una partita molto bloccata molto difficile per la Juventus e come ti dicevo la formazione bianconera se entra in campo nella seconda frazione con un'altra mentalità magari la può pareggiare e la può anche vincere se continua così la perde 2 a 0 o finisce 1 a 0 per l'Udinese guardiamo perché mancano ancora 5 minuti più il recupero alla fine del primo tempo ma la Juventus la vedo molto in difficoltà probabilmente anche la situazione e la partita di ieri sera ha cambiato qualche cosa perché poi a sapere che sei a più 7 cioè a meno 7 dall'Inter che ha vinto comunque una partita importantissima in chiave scudetto contro il contro la Roma è logico che sicuramente a livello di testa non ci vai con la tranquillità del caso non ci vai consapevole che puoi diminuire la diciamo la distanza con la capolista ma al massimo puoi rimanere a a meno 4 quindi al massimo puoi solamente peggiorare la tua situazione ora attacca la Juve si fa vedere sul corridoio e il versante è quello di destra cross messo nel mezzo per la testa di Federico Chiesa la palla si alza a campanile in qualche maniera si rimane lì la conclusione forte di Cambiasso di controbalzo e la sfera che era arrivata al limite dell'area di rigore su questa ribattuta della linea difensiva Friulana era saltato più alto di tutti se non ho visto male proprio Giannetti e c'è Cambiasso che si era fatto vedere di controbalzo con il mancino e aveva provato a concludere lontano dai pali difesi dal numero 40 Okoye dal portiere nigeriano dell'Udinese e allora mancano 4 minuti perché è scoccato il 41esimo alla fine del primo tempo guardiamo se ha visso il direttore di gara di questa sera vorrà concedere il recupero e guardiamo di quanto sarà ovviamente giallo per Bremer l'ha messo Wolk al Fanta e ormai è un meme esatto Yuri ormai sono un meme con Bremer soprattutto clamoroso ti rifaccio la domanda ma ti dà fastidio da Fiorentino vedere dei fenomeni ex viola fenomeni sono sicuramente degli ottimi giocatori ma dire fenomeni Vlaovic o Chiesa ragazzi sono dei buonissimi giocatori degli ottimi giocatori ma i fenomeni sono Cristiano Ronaldo Messi questi sono i fenomeni cioè o il fenomeno vero è stato Ronaldo il fenomeno cioè sono Batistuta questi sono i fenomeni secondo me Chiesa e Vlaovic sono dei bei giocatori sicuramente che potranno dire la loro fino alla fine cioè fino alla fine della carriera però guardiamo intanto attenzione è stato colpo di testa Okoye fa un miracolo Okoye fa un miracolo distinto sul colpo di testa ravvicinato di Arcadius Milik pescato da questo cross dalla sinistra da parte di Weston McKennie e qui Okoye si supera ma Arcadius Milik di testa praticamente lo colpisce con questa incornata e la mette sopra alta la traversa cioè la mette alta sopra la traversa scusate Okoye allora calcio d'angolo per la Juve dalla bandierina bassa parte traversione di nuovo Okoye con una smanacciata la mette fuori ora è una bellissima partita in questi minuti finali di primo tempo la Juve la recupera sul versante di destra lato corto lo scarico all'indietro cross nel mezzo ti si è tagliato da parte di proprio di Cambiasso ma l'udinese fa buona guardia a livello difensivo con la retroguardia il pacchetto momento ora ha servito Federico Chiesa lato corto della redigione siamo sulla catena di sinistra prova a cercare Weston McKennie ma c'è la chiusura addirittura di Lucca che va a dar manforte alla propria difesa poi la Juventus cerca di ritrovare il pallone con Federico Chiesa che commette pallo su Thauven bravissimi quindi sia Thauven sia Lucca a dare questo tocco in più alla linea difensiva e soprattutto a cercare di ritrovare il pallone in fase di non possesso questa è sicuramente una una situazione a livello di gioco che ha voluto Cioffi ma come minimo lo vedo intanto scusate perché il cross è stato di Alexandro dalla sinistra e non di Weston McKennie come avevo erroneamente detto prima e quindi si riprende ora con il calcio da fermo e un calcio di punizione anzi dalla propria area di rigore si riprende con Okoye dalla rimessa con i piedi errore amico mio i fenomeni del calcio mondiale sono Maradona Pele Van Basten Gullit Baggio ma allora io ti dico la verità anche Batistuta io ti dico io Van Basten Gullit non l'ho visti giocare Maradona stesso discorso perché non l'ho visti giocare Pelè uguale quindi era un altro calcio secondo me fare dei paragoni così come anche Batistuta Ronaldo il fenomeno questi tipi di giocatori secondo me è molto particolare cioè bisogna stare attenti perché cadere sul trash e cadere sul banale veramente è un attimo perché i fenomeni ce ne sono tanti ma di quell'epoca del calcio perché io sono d'accordo Van Basten ma io te lo dico per sentito dire io ti dico quelli che ho visto giocare Vati Gull Roberto Baggio sono d'accordo però da questo punto di vista i fenomeni sono quelli per me che ho visto giocare Maradona Pelè per sentito dire era un altro calcio Maradona magari avrebbe faticato nel nostro calcio moderno perché l'avrebbero steccato l'avrebbero portato via Tibia Perone Stinco qualsiasi cosa perché comunque era un giocatore veramente di estro veramente molto bravo a saltare l'uomo e l'ho visto in tante immagini però nel calcio moderno in questo momento dove tanti vengono veramente falciati quando non si riesce a prendere il pallone non so quanto avrebbe resistito non per la bravura eh attenzione ma per l'estro e la fantasia perché sicuramente sarebbe stato sempre il sorvegliato speciale io ti dico che ho visto delle interviste anche di Cannavaro soprattutto nel mondiale del 2002 se non mi ricordo male del Corea e Giappone del 2022 attenzione però attacca l'Udinese poi ritorniamo su questo argomento siamo al minuto numero 45 due minuti di recupero vertice basso il numero 19 si fa vedere messo il cross nel mezzo per l'arrivo di Zemura che poi riceve ancora prova a recuperare il pallone che aveva perso con il controllo non favorevole la conclusione è alta sopra la traversa da parte dell'Udinese che si era fatta vedere proprio con il 19 Ezzibue che aveva saltato di netto il suo diretto marcatore poi cambiasso che centralmente aveva provato a fermare l'azione offensiva della formazione priulana pallone messo nel mezzo come vi avevo detto alla sua terra centralmente con Zemura che aveva fatto il taglio dentro l'area di rigore avversare il controllo non era stato favorevole arriva Lovric che calcia di potenza alto sopra la traversa non inquadra lo specchio della porta comunque sono stati concessi due minuti di recupero secondo il direttore di gara e concessi dal quarto uomo che vi ricordo è il signor il signor Giuha con abisso della sezione di Palermo che ha decretato 120 secondi aggiuntivi intanto io vi dico ognuno è figlio della propria epoca soprattutto del proprio calcio e ti dico ritornando al discorso che ti facevo prima Maldini e lo stesso Fabio Cannavaro mi ricordo nel mondiale del 2022 quando c'era ancora Ronaldo il fenomeno che giocava non riuscivano a prenderlo e lo disse e ho rivisto un'intervista poco tempo fa dove parlava di un Ronaldo fenomenale quando era in giornata non lo prendevi mai questi sono i fenomeni come lo è appunto stato Maradona ma io non te lo so dire perché non l'ho visti giocare io da piccolino mi sono innamorato di squadre come la Fiorentina per Battistuta Rui Costa Edmundo per questi tipi di giocatori qui e secondo me i fenomeni bisogna esserseli vissuti per dire la propria quindi i fenomeni per me sono Battistuta sono Roberto Baggio fenomeno su tutti per me il mio calciatore preferito lo dico sempre Roberto Baggio non solo perché ha giocato alla Fiorentina ma perché secondo me è un super campione ci sono giocatori come appunto non lo so mi viene in mente chi c'è ora in questo momento CR7 è messi ma ve lo ripeto si sta andando verso la fine della carriera di loro si dovrà vedere chi saranno i nuovi fenomeni Mbappé Haaland guardiamo perché poi ognuno messo poi nel campionato di competenza può fare meno cioè più o meno bene intanto mentre vi facevo questo discorso nel periodo non collegato c'era una rimesa laterale vicino alla linea mediana di campo per l'udinese sul settore di destra il direttore di gara Abisso si porta il fischietto alla bocca fischia due volte e manda tutti sotto la doccia o meglio negli spogliatoi per l'intervallo finisce così 1-0 per la formazione bianconera ma quella ospite con il gol partita fino a questo momento di Giannetti il difensore centrale Lautaro Giannetti non è Lautaro Martinez ma è della stessa nazionalità che ha segnato al minuto numero 30 se non ricordo male fatemi vedere un attimino al minuto numero 25 scusate gli avevo dato 5 minuti di posticipo e quindi questa è anche la classifica dopo i primi 45 minuti di gioco vi facciamo vedere la classifica aggiornata dopo il primo tempo ed eccola qua alle mie spalle vi arriverà tra pochi secondi ed è una classifica che in questo momento non sta facendo sorridere la tifoseria bianconera e neanche la formazione di Massimiliano Allegri perché la distanza diventa abbastanza importante con 7 punti di differenza tra la Juventus e l'Inter che ha vinto vi ricordo la sua settima partita di fila soprattutto andando a vincere 4 a 1 scusate contro la Roma per quanto riguarda ovviamente la sfida di ieri sera ed è stata una partita veramente anzi di ieri sera scusate di sabato sera io mi perdo anche i giorni il conteggio dei giorni bellissima gara bellissima sfida con una Roma che comunque era passata in vantaggio ed era andata sopra per 2 a 1 alla fine del primo tempo poi Simone Inzaghi probabilmente gli ha detto qualcosa ai propri ragazzi anzi gli ha detto sicuramente qualcosa perché come riporta poi Alessandro Bastoni ha riportato Alessandro Bastoni alla fine della partita a Dazon ha detto proprio Simone Inzaghi entriamo in campo e dobbiamo essere noi se siamo noi riusciamo a vincerla e tant'è così è stato con i gol poi come sapete di Marco Sturam l'autorete di Angeligno e poi sul concludere Bastoni che al 94esimo ha concluso con il poker per l'Inter pensate che Alessandro Bastoni non segnava da due anni e ha segnato proprio sabato sera contro la Roma posticipo anticipo delle ore 18 possiamo dire così anticipo posticipo e quindi la Juventus dovrà cercare sicuramente di fare la partita in questo secondo tempo l'Udinese nonostante tutto è una formazione veramente molto ostica vi faccio vedere in che posizione di classifica è se scendiamo è veramente posizionata molto ma molto in basso come vedete 22 punti con questa vittoria altrimenti era a 20 con il pareggio 19 sarebbe in caso di sconfitta l'Udinese che deve cercare di togliersi da quelle sabbie mobili che sono veramente molto pericolose dove ci sono Verona Sassuolo Empoli il Frosinone che ha 23 il Lecce è un po' più distaccato il Genoa però il Calderone possiamo dire così è da Cagliari fino a Lecce perché sono 3, 6, 7 squadre nell'arco praticamente di 6 punti quindi è veramente un Calderone a tutti gli effetti e l'Udinese insieme al Sassuolo sono le due squadre che mi stanno più deludendo mi aspettavo una stagione difficile per loro due ma non mi aspettavo una stagione così in basso per la formazione friulana e quella emiliana guardiamo l'Empoli piano piano sembra essersi ripreso soprattutto dopo le partite e l'arrivo di Davide Nicola e guardiamo se riuscirà a concludere il campionato con la salvezza che fino a tre settimane fa sembrava insperata quindi questo è quanto questa è la classifica alle mie spalle andiamo a leggere un po' di vostri commenti secondo voi ragazzi è giusto per il momento l'1-0 dell'Udinese o da quello che avete sentito da me dalla mia cronaca e che state vedendo magari con le statistiche era giusto un pareggio cioè che cosa ne pensate ditemi in chat e soprattutto quando mi rispondete a questa domanda sono curioso di sapere da dove mi scrivete quindi da dove mi state guardando e che squadra ti fate quindi mi raccomando facciamo un gioco anzi voglio fare tipo l'enigmista solo l'enigmista facciamo un gioco lasciate a parte il vostro like la vostra iscrizione attivando la campanella e scrivetemi da dove ci state guardando di dove siete e che squadra ti fate facciamo questo gioco e vi vado a leggere sono curioso intanto Montolivo Montolivo super campione e sicuramente un super un super fuoriclasse Messi o Ronaldo ma dipende se avessi una squadra di calcio probabilmente sarei indeciso sul chi prendere perché entrambi hanno caratteristiche diverse uno poi è una punta centrale Messi è un trequartista uno è basso cioè basso medio alto possiamo dire così di un metro e 72 73 non mi ricordo quanto è Messi ma è molto tecnico Cristiano Ronaldo è comunque tecnico però più fisico e segna in tutti i modi di testa di fisico di prepotenza di 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 comunque sto riguardando il replay effettivamente Eoko Ye va a colpire Milik ma qua nella parte alta e lo va poi a sfiorare anche se comunque l'intervento era molto pericoloso lo stavo rivedendo in questo momento che lo stavano facendo rivedere a Sky perché la partita stasera è di Sky intanto mettiamo un po' di musica così vi vado a leggere comunque finendo il discorso probabilmente io andrei a prendere più Ronaldo per fisicità e se invece avessi bisogno di un po' di di tecnica cercherei probabilmente di andarmi a prendere Messi quindi a seconda delle mie della mia squadra mi prenderei un giocatore diverso sono interista allora andiamo a leggere andiamo a leggere sono interista la costa d'Ovorio padrone di casa campione d'Africa ha vinto la coppa d'Africa si forza pescara sempre abbiamo visto ieri infatti Inter ha una partita in meno Leonardo non giocherei mai contro Israele in che senso Angelo ma per quello che sta succedendo a livello politico geopolitico allora io l'ho detto ragazzi intanto mi dissocio da quello che dice Angelo perché non sono d'accordo su questo e soprattutto cioè io mi dissocio in toto e abbiamo detto ragazzi non parliamo di politica e non parliamo di cose ambigue o strane in questo canale si parla di calcio e di sport ok ragazzi se volete parlare di altro andate su un altro canale ok non per cattiveria ma perché qui non voglio parlare di altro voglio parlare di calcio di quello che sto vedendo di quello che stiamo ragionando di fantacalcio ok ma di politica ragazzi no e neanche di geopolitica e noi siamo contro la guerra ovviamente quindi siamo per la pace e questo ci mancherebbe altro ma da qui a dire una cosa del genere ragazzi io mi dissocio caro Leonardo Angelo scusami non Leonardo la Juventus non può permettersi questo risultato comunque complimenti all'Udinese dice Lucas per me no secondo me la Juve aveva a disposizione due rigori tipo Inter da Como appena poi leggi i commenti forza ho letto ho letto esatto hai ragione forza Pescara secondo me merita l'Udinese per la posizione che tiene la Juve non può permettersi questa prestazione sono di Catania e tipo Inter grande Raffaele andiamo a vedere ragazzi di TikTok di dove siete e soprattutto che squadra ti fate allora Annalisa ci dice io sono calabrese tipo Juventus grazia Brancato ci dice Inter a vita da Ragusa tipo Inter gladiatore 75 sono di Matera giusto il risultato se vince la Juve speriamo allora la Melo speriamo segni Bremer ma anche la vedo dura la vedo difficile ha preso già l'ammunizione quindi finirà così dimenticavo ce n'erano il tre ce n'erano tre il portiere Tolito della Fiorentina Antonioni e Baggio Alfonso lì mamma mia ma che sei della Fiorentina Alfonso grazie ai user intanto per il follower gli altri giocatori della Fiorentina sono stati discreti però il vero campione secondo me è stato Rui Costa e Batistuta i veri fenomeni poi vabbè Antonioni nella sua epoca però sì ti chiami come il nostro campione giocatore del Palermo Edoardo Soleri grande Alfonso sì mi chiamo Edoardo mi chiamo Edoardo Walk of Sport ragazzi vi aspetto nel gruppo di Telegram Fanta Walk lo trovate in bio e vi faccio un bel regalo per chi entra in questo momento vi faccio un bel regalo ragazzi poi ditemi che non vi voglio bene quindi per chi entra in questo momento è un bel regalo quindi entrate e lo vedete da voi perché vi scrivo una cosa nel gruppo di Telegram che si chiama Fanta Walk quindi mi raccomando entrateci in questo momento e vi ricordo che alla fine della partita ci saranno gli highlights di questa partita non solo e durante la settimana parliamo di calcio di Fanta Calcio e vi ricordo a tutti quelli che stanno entrando nel nostro gruppo di Telegram che alla fine di questo mese ci sarà un giveaway solo per i ragazzi di Telegram per vincere la squadra scusate la maglietta della squadra del proprio cuore ok quindi io vi invito ad entrare tutti sul nostro profilo di Telegram Fanta Walk ve lo scrivo se siete su TikTok ve lo ripeto ve lo trovate in bio lo trovate in descrizione se siete su YouTube qui sotto oltre che lasciare like ed iscrivervi attivando la campanella perché siamo quasi arrivati a 29.300 iscritti c'è il link per entrare nel gruppo di Telegram ragazzi è gratuito dai così almeno poi mi ringraziate per chi entra mi ringrazierà non vi voglio dire nient'altro perché vi scrivo vi scrivo delle cose vi faccio dei bei regali per chi vuole entrare ed è nuovo vi ricordo di non uscire poi dal gruppo di Telegram ma eventualmente di silenziarlo perché per chi esce dal gruppo di Telegram c'è un bot che lo blocca e lo banna per 5-6 mesi per evitare l'entraesci ok caotico lo dico sempre allora andiamo a leggere un po' di commenti ancora di dove siete allora tira anche Soleri d'Ordo del Palermo ok ma nel gruppo si parla pure delle si si a voglia si parla pure dei pronostici ovviamente ragazzi vi dico sempre giocate solo se è maggiorenne giocate responsabilmente poi i pronostici nostri non sono da tipster sono da ragazzo appassionato di fantacalcio che va a leggere ad analizzare le partite e vi dico come secondo me finirà quindi pronostico in questo senso non a livello di tipster non si fa giocate non si fa niente sul canale però i pronostici ovviamente le vado a dire e vi dico sempre la mia tutte le settimane dove becco il link dirus in bio in bio vedi il link comunque si chiama fantawalk se entri su se entri su Telegram e clicchi fantawalk cerchi fantawalk vedi il mio logo e ci entri è gratuito è facile e quindi entrateci ragazzi entrateci che ci divertiamo insieme e siamo in più di mille mille fantallenatori che ogni volta ogni settimana bestemmiano nel senso buono ovviamente non si bestemmia che sono lì e si arrabbiano gioiscono tutti insieme gioiamo con loro per la vittoria o perché magari hanno fatto un bello scambio parliamo veramente di tutto ragazzi ed è fighissimo secondo me il gruppo di Telegram in quella maniera grande campione del Palermo Edoardo Soleri molto giovane e lo stesso Rui Costa Rui Costa ragazzi è stato un super campione vi faccio vedere una maglietta per chi non l'ha vista e sarà una maglietta che appunto avrete la possibilità poi di vincere in un futuro vi faccio vedere per chi ci segue da tempo ragazzi questa maglietta raga la vedete la vedete questa maglietta è di un certo batigol ok potrete vincere magliette anche retro se vi iscrivete nel gruppo di Telegram Fanta Walk ci state perché a fine mese ci sarà un giveaway ok questa è la maglietta fantastica che io ho di batigol visto che parlavamo di campioni di fuoriclasse e quindi mi raccomando Batistuta eccola qua ora perché c'è la luce e non si vede il numero raga c'è il green screen per quello però guardate che bellezza guardate che figata maglia retro maglia fantastica maglia bellissima e questa è una delle mie maglie preferite e appunto voi volendo entrando nel gruppo di Telegram seguendomi anche su Instagram perché poi farò anche un altro giveaway su Instagram cioè noi ci spostiamo nei vari social facciamo un giveaway prima su Telegram poi ci sposteremo sulla piattaforma di Instagram dove mi chiamo Walk of Sport tanto i link li trovate tutti in bio poi faremo un giveaway pure lì poi faremo un giveaway su YouTube e poi stop TikTok e i giveaway su Twitch le faremo in un secondo momento quindi nei prossimi mesi se mi volete seguire c'è il gruppo di Telegram Fanta Walk Instagram Walk of Sport ok ve lo metto in chat se siete su YouTube e se siete su TikTok lo potete trovare in bio tutti i social ragazzi e ve lo dico poi ci divertiamo insieme basta non voglio essere più ripetitivo perché altrimenti poi vi dico sempre le solite cose e non vi voglio assillare se uno vuole entrare sa come fare e in più come vi dicevo carichiamo i gol e gli highlights a fine della partita quando è finita la sfida in questo caso Udinese e Juventus Juve Udinese caricheremo tutti i gol e gli highlights va bene quindi mi raccomando gol di Giannetti che ha portato in avanti la formazione ospite quindi soprattutto per i fanta allenatori che ti fanno Juventus stasera a maggior ragione la bestemmia è assicurata no però lo ripeto non si bestemmia chi mi segue su Instagram lo vado a ringraziare immediatamente guardiamo se c'è qualche nuovo follower Fabio Di Torrice grazie mille Fabio Di Torrice per il follower su Instagram grazie anche a Daniele Petrella grazie ad Andrea Viola92 grazie a Willy Navo grazie a Giovanni Giannacone e grazie anche a Navi questi sono gli ultimi follower di Instagram WorldCoffSport mi trovate anche su Instagram dove escono tanti post soprattutto per il fantacalcio stesso discorso per TikTok anche se non saranno sempre gli stessi cioè non sono uguali detto questo vado velocemente a prendermi un caffè esatto è Rui Costa questa è la maglia ragazzi le squadre no le squadre stanno rientrando in campo non riesco a prendermi il caffè ragazzi quindi fra quando ricominciano stanno entrando in campo ragazzi niente caffè niente caffè mi bevo l'acqua e spero vivamente di vedervi nel nostro gruppo di Telegram dove sapete quando siamo in live dove escono i video i video ragazzi io ci tengo tantissimo ci tengo tantissimo ai video perché quando parliamo di fantacalcio e di consigli ragazzi venite venite in tanti perché giusto voi potete farci crescere la community è importante e soprattutto io do i consigli di fantacalcio grazie anche a Fanta Lab che è la nostra partner del canale insieme a diretta.it high score di conseguenza vi dico entrate venite perché ci divertiamo veramente tanto insieme ed è secondo me una figata anche andare a vedere i video di tutte le settimane perché analizziamo partita per partita con le probabili formazioni con gli indici di schierabilità miei quindi andiamo a vedere eh esatto Vialdi campione eccezionale scusami Edoardo non dimentichiamo che il più forte di Bati c'era anche Totti vabbè Totti altro campione fenomenale Walk fammi gli auguri che mercoledì mi laureo il vostro Depati allora gli auguri te li faccio dopo mercoledì non si fanno mai prima come gli anni quando le fai si fanno sempre o a mezzanotte o dopo non si fanno mai prima però ti faccio un grosso in bocca al lupo il vostro Depa e ti aspetto per farteli quando ti sei laureato ciao mi salutate per piacere ciao Sofian benvenuto in live o benvenuta grande Botti grazie mille ti stimo Walk grazie di cuore vi aspetto nel gruppo di Telegram ragazzi vi aspetto perché dopo alla fine della partita metteremo tutti gli highlights se ci saranno i gol quanti gol ci saranno non lo so però metteremo tutti gli highlights e tutte le settimane potrete appunto essere dei nostri per sapere delle partite e per vedere quello che è successo nel fine settimana ritorniamo in campo togliamo la musica perché la partita e il secondo tempo sta per cominciare mi raccomando vi ricordo a tutti i ragazzi di TikTok che se arriviamo a 10.000 like alla fine della partita vi porterò una mezz'oretta 40 minuti di asta di riparazione che faccio con i ragazzi di Fanta Walk Starks se invece non arriviamo a 10.000 like stacco su TikTok su YouTube invece dobbiamo arrivare a 80 like ve lo ripeto siamo a 55 e basta e mancano ancora 35 like se arriviamo ad 80 like ragazzi mercoledì e giovedì vi portiamo Champions League ed Europa League in live reaction io e Andrea ok perché ovviamente c'è la Lazio contro il Bayern Monaco e ci saranno poi le altre italiane nel giovedì attenzione perché c'è subito Federico Chiesa che ci prova con questa sortita offensiva e soprattutto questo surplus prova a puntare l'uomo arriva sulla linea di fondo prova a crossare nel mezzo ma palla sporcata e deviata proprio dalla chiusura di Zemura se non ho visto male che poi deve al pallone sui piedi e soprattutto sui guantoni di Okoye che si accartoccia a Juventus che attaccherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra secondo la nostra postazione con la classica divisa bianco-nera strisce verticali inserti e numeri neri pantaloncili bianchi calzettone bianchi con sponde con loghi e soprattutto e con linee superiori laterali nere l'Udinese invece risponde da destra verso sinistra con la classica divisa ospite tutta rossa con inserti e numeri bianchi e quindi occhio perché l'Udinese sta vincendo 1-0 vi ricordo il gol di Giannetti nel primo tempo al venticinquesimo su una palla vagante dentro l'area di rigore dove Alessandro sbaglia la marcatura proprio sul numero 30 poi erano andati a saltare anche giocatori come Lovric, Taouen e anche Wallace e quindi la palla rimane lì nell'area piccola Cesni aveva tentato di tuffarsi sulla propria destra per fermare questo tentativo intanto cartellino rosso per un componente della panchina della Juventus se non ho visto male sì, per un componente della panchina della Juventus Abisso quindi e Spelle ve lo ripeto di nuovo un componente della panchina della Juventus non sono riuscito neanche a vedere chi è perché se ne va subito negli spogliatoi probabilmente per proteste raga mi salutate ho già salutato Sofian please mi faresti gli auguri per favore Emanuela in che senso fai gli anni ciao sono nuovo ciao Emanuela Ferrero ragazzi ma non sono ciccio gamer che vengo vi saluto ciao ciao paguri saluto ciccio gamer in questo caso raga siamo qui per parlare della partita io vi saluto se vi iscrivete vi saluto perché apparite a schermo ho la sensazione la Juve la ribalti 2 a 1 dice Raffaele cacciate allegri dice Marco Caponi dove la stai guardando su Sky caro Piestabile sei un grande Edoardo grazie Alfonso Lì gentilissimo grazie di cuore a voi ragazzi di TikTok e anche ragazzi di YouTube mi raccomando lasciate like grazie al nuovo iscritto Corribello grazie di cuore attacca ora la Juventus perde palla sul settore di destra si fa vedere Zemura Cristensen la rilancia in profondità per nessuno perché avanza Milik che la mette giù di petto all'indietro per il 22 non ci sono stati cambi né nella Juventus né nell'Udinese per questa seconda frazione le due formazioni bianco nere con i soliti colori sociali ora si vanno a sfidare nei prossimi 45 minuti con giocatori che sicuramente entreranno dalla panchina e potrebbero fare bene ve lo ripeto per l'ennesima volta potrebbero essere dei giocatori che da subentranti potrebbero fare la differenza ora riparte Gleason Bremer siamo sul cerchio centrale di centrocampo il pallone il tocco corto per Locatelli che allarga sulla sinistra si fa vedere proprio Cambiasso che si trova e balla praticamente al limite del fallo laterale poi è costretta la Juventus addirittura a ritornare di nuovo da Bremer che poi avanza palla al piede cerca di portarsi in zona tiro sulla tre quarti di sinistra allarga per Cambiasso che si fa vedere sempre sulla catena Mancina ora Cambiasso punta all'uomo ne salta uno ne salta due come Birilli salta il terzo viene messo giù e probabilmente c'è calcio di punizione sì fischiato dal direttore di gara era Chiesa perché non c'è Cambiasso prima c'era Cambiasso ora Chiesa si intercambia nel numero 27 il numero 7 ora Chiesa bravissimo a saltare tre uomini scusate per l'errore era Chiesa che ha saltato prima Ezibue poi Perez e poi ancora la chiusura del numero 8 del numero 18 scusate che è andato proprio a mettere giù Federico Chiesa che si conquista il calcio di punizione 49esimo anzi 50esimo in corso attenzione perché la punizione potrebbe essere molto pericolosa ci sono 3-6 uomini della Juventus a saltare dentro la punizione si batterà dalla corsia Mancina vicino al fallo laterale guardiamo perché c'è sia Chiesa che Cambiasso sul punto di battuta parte Chiesa male con il Mancino teso e tagliato all'altezza del primo palo messo fuori in rimessa laterale dalla formazione bianconera con Samarzic e allora proprio Federico Chiesa va sul punto di battuta va con questa tuscia no lascia il pallone ad Alexandro che dà all'indietro per l'arrivo di Locatelli ancora il pallone ad Alexandro il brasiliano però non controlla favorevolmente quindi è costretto a retrocedere a dare il pallone di nuovo Alex Sassuolo che poi mette il pallone al limite dell'area di rigore dove il colpo di testa di Milik è impreciso in questa sponda poi la Juventus sulla tre quarti di sinistra ha allargato il gioco per Chiesa che gioca molto in ampiezza lato corto ancora arriva sulla linea di fondo prova a crossare nel mezzo ma c'è un calcio d'angolo guadagnato dalla Juventus calcio d'angolo per la formazione bianconera no Chiesa era andato a battere il corner e invece Abisso gli dice l'ultimo tocco è il tuo e quindi grazie Emanuele per il follower grazie a Domenico Pisani per il follower andiamo a vedere perché stanno facendo rivedere il replay l'ultimo tocco no giusto hanno visto bene è la Chiesa che l'ha sparata praticamente è rimessa dal fondo io tifo Fiorentina Sofiana sono un tifoso della Fiorentina poi chi ti fate? eh ragazzi scrivete in chat chi ti fate sono curioso mi raccomando lasciate like qui sotto e dateci un vostro parere anche sulla partita mi raccomando arriviamo facciamo un bel record su TikTok voi tutti 160 nel vostro dispositivo doppio tap su YouTube invece like mi raccomando dai dateci una mano per chi sta entrando condividetela live lasciate il pollice in su entrate sui profili Telegram dove potrete vedere tutti i golli e gli highlights alla fine della partita parlare di fantacalcio con noi e stare con noi quindi mi raccomando ragazzi di YouTube e ragazzi di Telegram dateci una mano siete voi che fate crescere il canale io non sono nessuno per far crescere il canale io vado solo di passione sono uno che si appassiona di radiocronache telecronache e live reaction perché queste sono live reaction e ovviamente cerco di mettere la mia passione al vostro a vostra disposizione però senza il vostro sostegno ragazzi io non posso crescere quindi vi ringrazio se mi date una mano sia con gli abbonamenti perché vi ricordo che potete fare l'abbonamento anche su YouTube a 99 centesimi su Twitch gratis con l'abbonamento di Amazon Prime e ringrazio il nuovo abbonato di ieri con Amazon Prime che è gratuito e potete fare l'abbonamento anche con TikTok a 3,99 perché chi farà l'abbonamento poi quando arriverà il nuovo anno ci saranno tanti vantaggi anche per i fantallenatori e non solo anche dei video e delle live per tutti gli abbonati detto questo basta concludo se ci volete dare una mano vi ringrazio parte subito Cambiasso sulla destra prova a convergere verso il centro il pallone messo nel mezzo con il sinistro teso e tagliato ma fa buona guardia ancora la linea difensiva Friulano serie di batti e ribatti si gioca sul cerchio centrale di centrocampo Ragleson Bremer fa sportellate con Luca in qualche maniera si divincola il giocatore con la maglia numero 17 Lex Pisa e recupera il pallone poi Weston McKennie la recupera sul 33 Zemura che perde il pallone attenzione perché si innesca un contropiede che potrebbe essere potenzialmente pericoloso della Juventus ma c'è Arcadius Milik che viene atterrato da posizione centrale molto lontano dalla porta difesa da Okoye e allora gioco fermo con il fischio di Abisso quando siamo giunti al minuto numero 53 sul cronometro ottavo del secondo tempo e ancora l'Udinese sta facendo l'impresa allo Juventus Stadium 1 a 0 con il gol di Giannetti al venticinquesimo del primo tempo fenomeni queste dell'Udinese dice Pizdan ciao Love Milan grazie mille per il follower grazie a Giova Amato ma la Juve li fa due gol è tosta sarà tosta molto difficile attenzione calcio di punizione il pallone è spiovuto nel mezzo anzi con lo spiovente messo nel mezzo spiovuto si può dire ragazzi però non è bello da sentire soprattutto per una live reaction però vai ogni tanto tiro fuori qualche nuovo termine tipo Baccano tipo Spiovuto come ho detto ora Baccano l'altro giorno me l'avete detto secondo te chi vincerà secondo me finisce 1 a 1 o vince la Juve 2 a 1 anche se l'Udinese in contropiede può essere veramente molto pericolosa io ti fomina ma simpatizzo Juve 3 a 1 secondo Alessandro Giardi attacca comunque la formazione bianconera di casa di Massimiliano Allegri sulla corsia di sinistra conquista un calcio di punizione proprio Timo Tivea con Lovric che era andato a praticamente a fermare con le cattive il giocatore francese anche lui figlio d'arte visto che si tratta di un UEA lo sapete Giorgio UEA il liberiano se non ricordo male della Liberia che segnò un goal cost to cost contro l'Elas Verona San Siro uno dei più belli della storia della Serie A intanto grazie a C Marce a C Marcello grazie mille per il follower e grazie mille per le 5 rose e lo vado subito a scrivere qui ragazzi grazie a chi sta donando e chi sta facendo crescere il canale andiamolo a scrivere come si iscrive a C Marcello però Marcello con il 4 Marcello 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 ok Marcello ti ho scritto grazie per le 5 rose Marcello grazie di cuore ritorniamo a noi ritorniamo alla partita intanto chi vuole può fare anche l'abbonamento e può fare una donazione per farci crescere e ovviamente per anche darci una mano e chi la fa o chi fa l'abbonamento vi dico sempre è più un attestato di stima perché poi anche le rose sono pochi sono pochi spiccioli se uno ci va a pensare ma per me sono tantissimi perché uno come a C Marcello o come Roblox si sono messi lì e hanno donato 1-2 centesimi vuol dire che mi hanno solo pensato a me non importa quanto ragazzi è solo il pensiero e quindi è un attestato di stima anche per chi sia buono a chi fa una donazione quindi vi ringrazio però basta non voglio entrare su questo argomento uno se vuole lo può fare se non lo vuole fare vi capisco siete liberissimi e vi ringrazio ugualmente di essere qui con noi detto questo cross dalla sinistra per la Juventus messo fuori ancora dall'Udinese che sta facendo buona guardia praticamente ha messo un pullman davanti alla propria area di rigore ora si fa vedere Weston McKennie cambiasso prova un cross ribattuto la palla rimane lì all'altezza dell'area di rigore attenzione ora Gleason Bremer Luca fa sportellate di fisico tiene bravissimo Bremer che riesce a rubargli il pallone a sradicarglielo al numero 17 e innesca di nuovo un contropiede della Juventus comunque la formazione friulana è tutta già dietro la linea del pallone ora prova in surprise rabbio a mettere il pallone il mezzo attenzione Milik la mette prova a metterla in porta e c'è però anche qui una marcatura e occhio perché come chiede Milik c'è anche un tocco probabile di mano in chiusura grazie intanto a Emanuele Ferrero Emanuele Ferrero per il follower su YouTube intanto andiamo a rivedere il replay bravissimo qui Rabiot ad allungarsi il pallone ad andarsene via proprio a Samarzic a mettere un pallone nel mezzo raso terra centralmente in area di rigore ed è Milik a provare arriva a dire in porta la conclusione la conclusione è eh sì qui c'è un doppio tocco di braccio di Inauen Perez che era andato in chiusura però secondo il direttore di gara e anche secondo il VAR non c'è stata intenzionalità e di conseguenza non è stato fischiato il rigore ma c'è stato comunque un silent check per verificare questa situazione che era risultata in un primo momento molto ambigua erano andati in chiusura in due su questa conclusione di Arcadius Milik sul primo palo e questo raso terra che è andato a sbattere una volta prima su Inauen Perez poi è ritornato se non ho visto male su Giannetti che era andato in chiusura il pallone di nuovo sul braccio destro dell'argentino che appunto era stato cercato in questa sessione di mercato dal Napoli Chiesa please dice calcio quale vita grazie a Interhouse per il follower grazie a chi non so chi mettere non so che mettere grazie per il follower grazie ad Alex8822 grazie di nuovo a tutti quelli che si stanno followando l'abbonamento non posso farlo ora mi scrivo e dono qualcos'altro va bene AC Marcello non ti preoccupare io ho detto ho fatto un discorso generico in quella maniera se ti fa piacere e se hai possibilità ovviamente mi fa piacere e ti ringrazio non voglio che diventi una come si dice un obbligo donare o fare l'abbonamento no se uno può e ha voglia assolutamente sì e vi dico se avete cioè se siete minorenni anche se questa live è per maggiorenni e l'ho messa sia su TikTok sia su YouTube se siete minorenni chiedete sempre ai vostri genitori se potete fare abbonamento ai canali o se potete donare assolutamente ragazzi se siete minorenni questo è il regolamento che io quantomeno vi espongo nel mio canale ok ragazzi perché donazione a caso non le voglio e non assolutamente non si fanno per rispetto anche dei propri genitori e di chi va a lavorarseli questi soldi e chi va a sudarseli ok detto questo ve lo dico perché mi è già successo in passato e già lo dicevo e nonostante tutto comunque quel genitore nonostante tutto mi disse grazie perché fai dei bei contenuti non le rivolgo indietro però questa cosa ci tengo sempre a precisarla e sempre a ribadirla perché è una cosa a cui ci tengo cioè che i genitori siano al corrente se te vuoi fare un abbonamento vuoi donare a un creator che tu lo faccia consapevolmente non che vai a rubare la carta del tuo genitore e vai a fare donazioni questo ci tengo a precisarlo e lo sottolineo non voglio questi tipi di cose e ci dissociamo su questo comunque detto questo calcio d'angolo per la Juventus dalla bandierina bassa del settore di destra 59esimo in corso alla Juventus Stadium dentro tutti i saltatori tutte le torri va Federico Chiesa con questa traiettoria andrà Federico Chiesa con questa traiettoria ad uscire con il destro guardiamo un po' perché c'è il primo assistente intanto che va a fermare ancora il tentativo di palla inattiva di Federico Chiesa parte lo spevente sul palo più lontano Adria Rabiot stacca di destra la palla rimane lì Arcadius Milik Milik per l'1-1 e fa il pareggia ma c'è la segnalazione di offside c'è segnalazione di fuorigioco se anzi la palla è uscita nessuna segnalazione di fuorigioco la palla è uscita sul cross di Federico Chiesa gol annullata da Arcadius Milik perché la palla il cross alto e sul palo più lontano di Federico Chiesa era uscito sponda centrale dove Arcadius Milik salta più alto di tutti e Wallace poi se la sarebbe buttata dentro involontariamente quindi secondo me sarebbe stato più autogol che gol di Milik sponda di Rabiot tocco colpo di testa ravvicinato per zone centrali dentro l'area piccola di Arcadius Milik che la mette alle spalle di Okoye e poi come vi ho detto Wallace sulla linea di porta se l'era buttata dentro non so che cosa avrebbe dato la federazione la FIGC però come sentite dai fischi gol annullato alla Juventus anzi non si può parlare di gol annullato perché c'era il cross di Federico Chiesa sugli sviluppi di questo calcio d'angolo era uscito dal campo dal rettangolo dal terreno di gioco quindi il quinto calcio d'angolo della Juve era diventato l'1 a 1 e invece si rimane sull'1 a 0 per l'Udinese quindi grande spavento per la formazione bianconera ospite allenata da Giovanni Cioffi e occhio Gabriele Cioffi scusate perché ho detto Giovanni da Gabriele Cioffi ed effettivamente visto con il VAR e visto con il replay il pallone è uscito nettamente fuori al rettangolo di gioco su questo cross di Federico Chiesa e allora prima sostituzione per la Juventus al minuto numero 61 andiamo a vedere grazie intanto a Marcello di nuovo per le rose ti metto un bel 10 accanto alla tua donazione grazie mille per il sostegno grazie di cuore al nostro Marcello grazie 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 intanto andiamo a vedere perché è entrato il Diz al posto se non ho visto male proprio di Timothy Weah quindi probabilmente la Juve con un 433 cross nel mezzo attenzione in qualche maniera e Zibue con la testa la mette fuori la recupera Chiesa sempre vicino alla linea del fallo laterale siamo sulla corsia mancina punta ancora Zibue Chiesa prova a saltarlo ma ritorna con il fisico numero 19 poi ancora Federico Chiesa ritorna sul pallone gli urla al direttore di gara visto che fischia il fallo qui secondo me Zibue sente il tocco di Federico Chiesa si lascia cadere probabilmente aveva ragione Federico Chiesa in questo momento grande il nostro Maktar grande Maktar buonasera al nostro papero solitario ciao papero come stai basta annullare il gol no Michael ma non è stato annullato nessun gol alla Juventus perché il cross era uscito poi era stata giocata l'azione ma con il VAR il pallone esce al momento del cross poi c'era stata la sponda di Rabiot e colpo di testa di Milik però il gol non è stato annullato cioè noi abbiamo detto annullato perché ormai da Prasivar bisogna che termini l'azione e anche se poi c'è il gol poi si vanno a rivedere tutto quello che è successo e possono fischiare in questo caso il pallone fuori però lo devono fischiare alla fine dell'azione perché se tante volte poi in questo caso il pallone non fosse uscito ma fosse rimasto anche di mezzo millimetro dentro il rettangolo di gioco sulla linea il gol sarebbe stato convalidato però non si può parlare di gol annullato il gol annullato per Prassi perché per forza si deve finire l'azione ma il pallone era uscito molto prima cioè al momento del cross di Chiesa ok attenzione perché c'è ancora la Juventus che si fa vedere con questo pallone filtrante sullo scatto di Adler Rabiot che in area di rigore sulla destra si fa rimontare e viene messo fuori il pallone dalla linea difensiva dell'Udinese che mette fuori il pallone grazie mille non so come scriverti ti scrivo Ragno ti metto ragno grazie mille per il cuore infuocato grazie di cuore grazie veramente tanto e ti metto qui dietro anzi qui sotto di me grazie mille per il cuore infuocato su TikTok forza Juve dice Pia Stabile perché lo hanno annullato perché il cross di Federico Chiesa sugli sviluppi del calcio d'angolo era uscito cioè il pallone era uscito tutto ok per quello intanto attenzione perché ora c'è un contropiede dell'Udinese sul settore di Dea Strata Oven punta all'uomo punta Locatelli Eldiz in raddoppio di marcatura bravissimo Locatelli a toccare il pallone e poi a mantenerlo in campo con questa sortita offensiva della formazione friulana con il numero 26 uno dei più pericolosi quando si fa vedere in avanti per quanto riguarda l'Udinese ora la Juventus cerca di manovrare cerca di ragionare con il pallone tra i piedi all'altezza del cerchio di centrocampo con Federico Gatti servito di nuovo Locatelli che agisce da play basso allarga sulla sinistra per Alexandro poi pallone in verticale per Federico Chiesa cerca un contributo anche da Eldiz il pallone di ritorno con questa triangolazione che si chiude ma non per l'azione offensiva perché ci mette una pezza Naouen Perez che la mette in fallo laterale allora sarà rimessa con le mani per la Juventus sul settore di sinistra e ne approfitta Gabriele Cioffi per un altro cambio il primo della partita per quanto riguarda la formazione friulana uno l'ha già fatto la Juve grande Franci sì sì l'ho prese le chiavi grande Franci ragazzi andate a seguire il mio collega Francesco Francesco V che ora sta scrivendo su Youtube ma su Twitch ragazzi lo trovate come Sang Do Kan ok lo potete trovare e lui fa sparatutto giochi di sparatutto andatelo a seguire ragazzi poi se siete su Twitch andatevi vi andate ad iscrivere su Twitch nel mio canale in basso trovate tutti i consigliati e trovate anche lui doppio cambio per l'Udinese escono Zemura ed Ezivue ed entrano scusate Ebosele e Joao Ferreira mancano 25 minuti alla fine della partita perché siamo al 65esimo ci prova l'Udinese prova a tenere il risultato a mantenere questo 1-0 di Cortomuso grazie intanto ad Absolute Juve grazie ad Annalisa grazie a Bo Cisò 7 grazie a Ragno grazie mille anche per il cuore infuocato non solo alla Juve comunque gli annullano i gol esatto Mariolone sono d'accordo grazie ad Andrea Morgis 7 per il follower poi è una vergogna perdere con l'Udinese dice Elvira cosa ne pensi di questa Juve penso che sia una Juve diciamo molto spenta rispetto alla solita Juve probabilmente anche la sconfitta contro l'Inter ha gravato a livello psicologico e stasera diciamolo sta sta veramente in grossa difficoltà dobbiamo sbrigarci dice Elvira ma secondo te stiamo subendo troppi contropiede no però rischi di prendere un contropiede micidiale e magari finalizzato cioè nel senso ti possono segnare con le ripartenze perché la Juventus è praticamente tutta sbilanciata in avanti con questo 4-3-3 con il Diz e Milik e Chiesa lì davanti ed è logico che quando ti sbilanci in contropiede puoi rischiare di prendere gol attenzione perché ora c'è il cross proveniente dalla destra da parte di Weston McKennie alto e profondo per il colpo di testa cercato da il Diz ma niente da fare la palla rimane lì ancora con Chiesa attenzione la conclusione svirgolata addirittura la palla che prende una traiettoria strana e rimane in campo se ne stava andando verso il fallo laterale ma la tiene dentro il neo entrato e Bosele al posto di Zemura quindi e Bosele e Ferreira entrano per i due esterni cioè vale a dire Zemura ed Ezibue sembra quasi un gioco di parole ma non è così tanto grazie a chi ci sta seguendo ragazzi perdere così non lo accetto Elvira abbiamo perso pure no contro l'Udinese dice Botti che è milanista se non ricordo male vero Botti lui ti fa Fiorentina sono un tifoso della Viola si ragazzi di TikTok grazie per chi si sta iscrivendo siete in 280 quanti like siamo arrivati solo 5000 ragazzi arriviamo a 10.000 like su TikTok e iscrivetevi attivando la campanella stesso discorso per i ragazzi di YouTube siete in 160 il nostro obiettivo è di arrivare ad almeno 80-90 like forza ragazzi di YouTube iscrivetevi perché stasera possiamo arrivare a 29.300 iscritti mi raccomando se siete appassionati di Fanta Calcio e Live Reaction siete sul canale giusto e mi raccomando ragazzi se entrate nel nostro gruppo di Telegram ve lo ricordo a tutti soprattutto ai nuovi il link lo trovate in chat e anche per quanto riguarda TikTok il link lo trovate in bio perché alla fine della partita potete vedere tutti i gol e gli highlights non solo di questa sfida ma di tutte le partite ogni settimana per quanto riguarda la Serie A ci sono tutti i gol e gli highlights alla fine di ogni partita quindi andateci a seguire sul gruppo di Telegram dove poi parliamo di calcio di Fanta Calcio sapete degli infortuni sapete quando rientrano i giocatori sapete quando escono le live e i video per i consigli di Fanta Calcio quindi mi raccomando ragazzi è tutto un gruppo importante in tanti mandate anche voi Fanta allenatori le vostre squadre è fighissimo il gruppo di Telegram non lo voglio dire più mi raccomando dai mancano pochi iscritti ai 29.300 vi aspetto sul gruppo di Telegram Fanta Walk ve lo ricordo come si chiama Fanta Walk tutto attaccato e alla fine di febbraio ci sarà anche un giveaway per i soli ragazzi presenti sul gruppo di Telegram per vincere la maglia della squadra del proprio cuore personalizzata calcio di punizione per l'udinese sul settore di destra con Samarzic pronto a battere con il mancino parte lo spivente sul palo più lontano si fa vedere Lucca ma non arriva sul pallone e la sfera che finisce sul fondo grazie a De Mao per la rosa grazie a De Mao allora andiamo e scriviamo E Mao grazie mille per il tuo sostegno grazie di cuore anche a per chi si sta iscrivendo come Kame allora poi Gatti Conta su di te ok facciamo così ok allora all'andata io sono milanista esatto Botti me lo ricordavo che eri milanista ciao ciao Michi benvenuto in live grandi ragazzi grazie per i like grazie a Mirko Birumbi che ci dice io 210 like abbiamo un buon Lucio qui no non credo che ci sia Lucio non lo so ragazzi grazie a tutti intanto 69 sul cronometro anzi siamo al settantesimo e il punteggio persiste con l'1-0 dell'Udinese si fa vedere Gatti a larga sulla destra per Weston McKennie ora gioca in ampiezza la formazione allenata da Massimo Allegri sbaglia il tocco cambia asso centralmente per l'Udinese sembra di pattinare comunque ora le due squadre sono lunghissime soprattutto il terreno è molto viscido e molto umido tanti giocatori scivolano soprattutto quando ritrovano il possesso di palla Weston McKennie ora in ripiegamento riesce a trovare il pallone e a recuperare la sfera ha aiutato anche da Cambiasso e allora la formazione di casa prova a distendersi sul versante mancino dove Alexandro la mette giù con il ginocchio e si fa vedere con questa verticalizzazione per Rabio sponda di Arkadius Milik troppo corta sulla sinistra per Federico Chiesa l'Udinese può ringraziare può ringraziare per ripartire soprattutto con il possesso di palla prova il pressing asfissiante la Juventus non riesce a trovare il pallone proprio Cambiasso che si mette poi le mani nei capelli ancora la formazione friulana palla al piede bravissimo qui proprio Tao Venn se non ho visto male no è Samarzic che prova in solitaria ad andarsene sulla fascia mancina salta Weston McKennie ma si allunga purtroppo il pallone e lo statunitense va a riprendersi la sfera che va al di là della linea del pallo laterale allora si riprenderà con il possesso di palla della formazione bianconera di casa quando mancano 20 minuti più il recupero ora la Juve deve trovare il gol del pareggio ma l'aveva anche trovato ma è stato annullato diciamo così è stato annullato perché il pallone il cross di Federico Chiesa appunto su corner era uscita era uscita tutto poi come sapevate come vi ho raccontato sponda di Rabiot per il colpo di testa vincente di Milik ma niente da fare ancora però prova la Juventus con questo lancio dalla sinistra lo spiovente in area di rigore solamente la tocca solamente Adriel Rabiot arriva a cambiaso sul versante di destra lato corto lo scarico per McKennie all'indietro poi Milik scusate Gatti per Alexandro se non ho visto male poi ancora verticalizzazione per il Diz il Diz la mette nel mezzo attenzione Locatelli viene fermato ancora dalla chiusura di Wallace e prova a ripartire l'Udinese con questa verticalizzazione Bremer però in anticipo su Lucca che era stato lanciato nello spazio nella prateria che ormai concede puntualmente la Juventus del settore di destra ma come vi ho appena raccontato Gleason Bremer va di velocità va di fisico e si prende il pallone allora 72 in corso attacca la formazione bianconera sulla corsia mancina gran triangolazione ancora il Diz arriva sulla linea di fondo viene fermato in calcio d'angolo da questa scivolata se non ho visto male di Neuven Perez e allora corner tutti dentro a saltare ormai anzi la chiusura era del numero 13 il Neu è entrato vale a dire Ferreira il portoghese attenzione parte la conclusione sul palo più lontano tiro di chiesa che si era portato all'altezza del vertice alto dell'area di rigore avversaria ed era stato pescato proprio dal compagno che era andato a battere il compagno di squadra che era andato a battere il calcio d'angolo vale a dire cambiaso e allora conclusione alta sopra la traversa intanto inquadrati i tifosi della Juventus increduli per questo 1-0 della squadra dello stesso colore sociale ma ospite cioè l'udinese di Gabriele Cioffi al minuto numero 73 intanto ringrazio il nostro Sasi grazie mille andiamo a mettere anche Sasi tra le donazioni per quanto riguarda i ragazzi di TikTok grazie di cuore ragazzi anche di Youtube che state lasciando like e vi state iscrivendo attivando la campanella mi raccomando così almeno riceverete sempre le notifiche di quando escono i video dei consigli di Fanta Calcio perché il nostro è un canale principalmente di consigli di Fanta Calcio e di live reaction ok oltre che ovviamente sapere quando siamo in live vi aspetto anche sul nostro gruppo di Telegram ragazzi anche di Youtube siete in 170 270 invece per quanto riguarda TikTok entrate su Fanta Walk gruppo di Telegram perché alla fine della partita ragazzi vi potete vedere tutti i gol e gli highlights di quello che è successo e sta succedendo proprio su in questa sfida del Monday Night tra Juventus e Udinese intanto c'è un calcio di punizione guadagnato dal guadagnato dall'Udinese da zona centrale al limite dell'area di rigore Lucca di volontà di sacrificio si guadagna questo fallo in un primo momento pensavo avesse fischiato Abisso addirittura un fallo in difesa ammonito Weston McKennie secondo ammonito della Juventus terzo della partita dopo Ezibue e Bremer anche Weston McKennie per un fallo d'ostruzione sull'ex Pisa che quindi si va a prendere un fallo molto importante d'attenzione perché la mattonella è quella giusta potrebbe essere quella giusta per sia Lucca sia Samarzic o Lovric coloro che si potrebbero incaricare di questa palla inattiva siamo intorno ai 20 metri 19-20 metri fuori dall'area di rigore Juventina per zone centrali sul centro-sinistra 4 uomini in barriera messi da Cesni più il coccodrillo va probabilmente Lucca con il destro parte altissimo sopra la traversa tra i fischi dello Juventus Stadium battuto malissimo con il corpo all'indietro veramente in maniera scordinata allora Gatti lo vedo pronto per l'autorete dice Pavero famo ride non abbiamo grinta dice Marco Caponi benvenuto in live Marco Allegri via dice Michele Altamura 27 su TikTok forza Udine dice Mariolone benvenuto Mariolone grazie a Salvatore Bel per il follow per l'attenzione perché attacca la Juventus sul versante di destra prova in solitaria Weston McKennie punta Samarzic attenzione prova a saltare ma il numero 24 la mette in calcio d'angolo no l'ultimo tocco è di Weston McKennie guardiamo un po' no l'ultimo tocco sarebbe del 24 vale a dire di Samarzic ma il calcio d'angolo è stato concesso corner concesso intanto si preparano due uomini ad entrare per la Juve probabilmente tutti attaccanti corner dalla bandierina bassa il solito Chiesa la mette dentro sul primo palo ma malissimo bassa la mette fuori la linea difensiva dell'udinese che prova a ripartire in contropiede ma non riesce a controllare Otavén che praticamente regala il fallo laterale alla Juventus subito il numero 7 Federico Chiesa per Weston McKennie c'è la chiusura però del nuovo entrato e Bosele in fallo laterale di nuovo intanto la regia ci ricorda che sta vincendo l'udinese per 1 a 0 al minuto numero 76 il marcatore è Giannetti Lautaro Giannetti l'argentino difensore centrale alla prima apparizione di questa del nostro campionato e soprattutto nell'udinese e segna subito clamoroso con un con sua palla inattiva e allora eccolo qua il doppio cambio per la Juventus entrano andiamo a vedere chi il coccodrillo come fa non c'è nessuno che lo sa di conseguenza escono Locatelli e Locatelli e Federico Chiesa ed entrano Nonge Boendè e se non ho visto male non sono riuscito a vedere il secondo ed entra Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli doppio cambio anche per Cioffi escono Tao Venn e esce Tao Venn ed entra Brenner attenzione rientra Brenner ed esce Lucca ed entra Sassas quindi due attaccanti probabilmente per non abbassare la guardia e non abbassare troppo la linea offensiva per cercare di non schiacciarsi nella propria metà campo probabilmente i cambi di Cioffi sono questi sono più tattici che altro e allora seguiamo questa rimessa laterale battuta in questo momento cambiasso centralmente per il numero 41 che la mette nel mezzo vale a dire Nicolussi Caviglia però il cross teso e tagliato impreciso messo fuori ancora dall'Udinese resiste la formazione friulana resiste ancora il nuovo entrato Sassas ai danni proprio di Cambiasso il pallone però non viene preso ma è tutto regolare secondo il direttore di gara allora si comincia ancora cioè attacca ancora la Juventus sul versante mancino si fa vedere ancora Cambiasso aiutato da Alexandra e aiutato anche dal nuovo entrato il numero 41 Nicolussi Caviglia attenzione perché c'è un contropiede innescato dall'Udinese che ruba il pallone per zone centrali si fa vedere la formazione rossa con il completo rosso la conclusione debole e soprattutto strozzata con il destro dal vertice alto dell'area di rigore da parte di Brenner il neo entrato e soprattutto come sapete il brasiliano che era stato voluto e cercato dalla formazione friulana e arriva dall'MLS dai Sinsinnati dove appunto aveva trovato titolarità e tante reti addirittura nel 2022 18 reti in 31 presenze ed è secondo me un giocatore molto interessante a livello fantacalcistico ormai per quest'anno credo non più ma per la stagione prossima se rimane all'Udinese potrebbe essere veramente molto intrigante ne avevo parlato un gran bene poi si è infortunato cioè ne avevo parlato un gran bene a inizio stagione facendo proprio anche un posto su di lui dove vi andavo a dire delle specifiche intanto è calcio d'angolo perché c'è stato un tocco su questo tentativo di Brenner e allora Samarzic con il sinistro parte lo spievente all'interno dell'area di rigore viene messo fuori il pallone di nuovo a livello difensivo la Juventus molto attenta attacca subito la profondità sulla destra si fa vedere cambiasso al limite del fallo laterale e si guadagna proprio la tush offensiva vicino alla linea mediana di campo di fronte alle aree tecniche dei due mister cioè Massimiliano Allegri e mister Gabriele Cioffi grazie intanto a chi si sta iscrivendo grazie di cuore a tutti coloro che stanno lasciando like e che si stanno iscrivendo grazie anche per chi sta donando grazie di cuore vi ricordo che potete fare l'abbonamento a 99 centesimi o a 3,99 su TikTok 99 centesimi ovviamente su YouTube e vi potete abbonare gratuitamente se avete Amazon Prime con Twitch Twitch Prime ok vi ricordo che vi aspetto nel nostro gruppo di Telegram Fanta Walk per vedere tutti i gol e gli highlights quello che è successo stasera e per parlare di Fanta Calcio e consigli di Fanta Calcio tutti i weekend e non solo anche durante la settimana siamo un gruppo bello attivo siamo in più di mille Fanta allenatori quindi entrateci ragazzi intanto attacca ancora la Juventus grazie a Vincenzo Gian Santi ora ti vengo a ringraziare ti vengo a scrivere per la donazione della Rosa su TikTok attacca ancora sulla sinistra sul lato corto dell'area di rigore la Juventus proprio con Nonge Buende che non riesce però a metterla nel mezzo l'udinese però non riesce a fare densità e soprattutto non riesce a verticalizzare bene a verticalizzare bene lo fa in questo momento e si conquista il fallo un grandissimo Brenner con il fisico tirato giù da Alexandro che va a protestare con Abisso intanto grazie a Turi Turidu anzi Turi Turidru e grazie a Kevin per il follower su TikTok andiamo a scrivere proprio qui il nostro andiamo a scrivere Vincenzo Vincenzo Giansanti Vincenzo Giansanti vabbè ti ho scritto con i caratteri un po' particolari ma ti ho scritto grazie mille grazie a chi si sta iscrivendo grazie di cuore ragazzi siete in 330 su TikTok siete in 170 su YouTube grazie veramente a tutti a tutti anche solo chi ci sta seguendo per questa live reaction mancano dieci minuti anzi nove perché è scoccato l'ottantunesimo qui allo Juventus Stadium attacca ora invece Ludinese si fa vedere sulla tre quarti di sinistra timidamente prova a farsi notare proprio Samartic pallonetto per l'ingresso nella rigore di Brenner e anche di Sassas ma viene fermato ancora dalla Juventus che prova a ripartire in velocità Wallace commette fallo di proprio tattico andando a strattonare sul semicerchio di centrocampo il nuovo arrivato Nicolussi Caviglia anzi andando sul pallone scivolata ma rischiando qualcosina anche con il piede alto il piede quasi a martello nove minuti per la Juventus per trovare il gol del pareggio anche se non arriva cambia su apertura proprio sulla destra per il numero 27 che poi converge mette il pallone nel mezzo attenzione e qui non ci arriva di pochissimo il Diz che aveva fatto il movimento a tagliare sul palo più lontano pescato benissimo da questo cross delizioso e con il contagiri proprio del numero 27 che aveva disegnato una parabola straordinaria all'interno dell'area di rigore il Diz in scivolata in estirata non ci arriva con il destro la tocca solamente la sfiora solamente e Okoye si trova il pallone tra i guantoni e ringrazia ma che occasione qui per la Juventus su questo tentativo di cross dalla destra di Cambiasso che aveva fatto il movimento a convergere verso il centro ora Bremer si guadagna una rimessa laterale perché c'era stato un lancio lungo sul settore di destra per l'Udinese che ormai si affaccia in avanti solamente a folate ora c'è la Juve che prova a destreggiarsi palla al piede soprattutto ad uscire dalla propria metà campo con l'Udinese schiacciata nei propri 30 metri ora la Juve con il piede sull'acceleratore deve fare anche deve fare due cambi per forza se vuole trovare la via del gol cioè per forza no però sarebbe di buon auspicio anche provare a mettere qualcun altro dentro visto che sono stati solamente effettuati tre cambi da Massimiliano Allegri mancano otto minuti alla fine della partita ora siamo sul versante di destra sull'estremo out di destra dove cambia so tenta di puntare proprio Bosele che mette il pallone in fallo laterale con il tackle giusto e allora tocco corto ancora del numero 16 scusate si fa vedere intanto grazie a Carlo Dominici per il follower su YouTube grazie di cuore per il tuo sostegno c'è un calcio di punizione guadagnato dalla Juventus in questo istante calcio di punizione e palla nativa molto interessante probabilmente tutti dentro a saltare per quanto riguarda la Juventus dai Bremer ma trovamelo un gol a buco di culo ragazzi un po' con fortuna trovamelo ti prego perché ho bisogno del tuo a questo punto gol perché è stato ammonito va a cagare con il gol mi salirebbe almeno a 6 e mezzo e pareggerei nello storico intanto eccolo qua entra in questo momento se non ho visto male Cerri no Cerri è del entra chi entra ragazzi Cerri sì no Cerri c'è anche qui stasera doppio cambio per la Juventus 84 sul cronometro andiamo a vedere perché c'è Nicolussi Caviglia sul punto di battuta calcio di punizione siamo intorno ai 20 metri sulla destra parte lo spevente sul pallo più lontano esce Okoyer viene messo fuori il pallone in qualche maniera Bremer poi lo insegue ma c'è il fallo fischiato dal direttore di Carabisso che ha visto un'irregolarità e soprattutto un fallo d'ostruzione sul portiere nigeriano dell'Udinese eh sì Gatti gli frana praticamente addosso all'altezza del limite dell'area piccola su questa uscita alta e quindi giusto il fallo fischiato dal direttore di gara McKennie ancora in campo Weston McKennie ancora in campo unico ammonito insieme a Bremer per la Juve due ammoniti invece per l'Udinese Wallace ed Ezibue che però è uscito dal campo al minuto numero 66 per far spazio a Ferreira intanto sono usciti per la Juventus non sono riuscito a vedere chi è l'ultimo anzi il quarto cambio è Cerri è entrato al posto di Cambiasso all'84 quindi un minuto fa perché ora siamo all'85 l'Udinese ha effettuato invece quattro cambi come vi dicevo sono entrati Ebosele Ferreira Brenner e Sassess per chi fosse interessato soprattutto per i fantallenatori già sono presente come sempre grande Elvira grande Luca Marino ti prego Juve Marco Riccobono ora segna Gatti ci vorrebbe un pareggio un rigore per la Juve dice Maria Gertrude ok a 60 punti ma la Juve quando deve quando deve e ha la possibilità di andare in testa se la gioca male Marco Rotondo sono d'accordo intanto grazie gol di Edved dice Enzo Malla su TikTok grazie intanto per chi ci sta seguendo ragazzi siamo arrivati a 10.700 sulla piattaforma di TikTok grazie di cuore anche per i like siamo arrivati a 21.000 like mi raccomando ragazzi di YouTube invece arriviamo a 80-90 like ed iscrivetevi così arriviamo a 29.300 iscritti 86 sul cronometro sta scorrendo l'86esimo si fa vedere la Juve con questo lancio lungo la svirgolata attenzione imprecisa e all'indietro involontaria da parte proprio di Christensen che regala il pallone a Okoye che si accartoccia su se stesso e fa suo il pallone forza udinese dice Sertz forza udine dice Mariolone di nuovo poi stasera devo stasera proprio male la Juve si Maria Gertude proprio male stasera malissimo grazie grazie ragazzi per i complimenti per le belle parole grazie per tutti voi che vi state iscrivendo sia su TikTok sia su YouTube grazie anche ragazzi entrate su un gruppo di Telegram Fanta Walk per vedere poi tutti i gol e gli highlights così vedrete quello che è successo anche il gol annullato alla Juventus mi raccomando quindi vi aspettiamo su Fanta Walk gruppo di Telegram e i gol e gli highlights tutte le volte a fine delle partite per tutta la nostra il nostro campionato alla Serie A quindi mi raccomando lì parliamo di Fanta Calcio di Calcio Mercato e ci sono tanti Fanta allenatori che mandano anche i propri scambri le proprie formazioni vi date una mano tra di voi ci sono anch'io quindi ve lo ripeto sempre il link lo trovate in bio se siete su TikTok e lo trovate qui sotto in chat se siete su YouTube ok quindi mi raccomando il link di Telegram il gruppo si chiama Fanta Walk ve lo scrivo anche in chat se siete su TikTok e su YouTube lo sapete Fanta Walk gruppo di Telegram mi raccomando ragazzi intanto attacca ancora la Juve ma quando mancano 120 secondi alla fine della partita sarà sicuramente un recupero sostanzioso che vorrà concedere abisso Weston McKennie si guadagna una rimessa laterale no perché il direttore di gara concede una rimessa con le mani invece per Christensen per l'Udinese e allora cambio di Tush per il direttore di gara il signor Avisso della sezione di Palermo che stasera ha arbitrato molto all'inglese sventolando pochi cartellini gialli anche perché la partita con tanta sportività si sta giocando di conseguenza ci sta così ed ho ascoltato su Radio Sportiva che forse prendono in considerazione i due VAR a chiamata se è stato profetico Papero ma è così è giusto cioè il challenge ci deve essere cioè almeno due chiamate o tre a partita ci devono essere a chiamata su segnalazione cioè io chiamo il VAR perché secondo me c'è stata un'irregolarità oppure il gol era valido oppure per qualsiasi tipo di motivo io come club il challenge ce l'ho è giusto secondo me e sì in effetti io è da mesi che lo sto dicendo probabilmente c'è qualcuno che segue le nostre live reaction in Serie A intanto lo salutiamo grazie a chi ci sta seguendo della FIGC oppure della federazione italiana per quanto riguarda i nostri consigli che diamo sempre per quanto riguarda il challenge sì effettivamente Papero noi lo stiamo dicendo da mesi Inter raccomandata che ne pensate che ragazzi stiamo dicendo delle grosse minchiate l'Inter è la più solida sono d'accordo intanto ha monito Sassus per questo fallo in fase di ripiegamento 89 in corso allo Juventus Stadium dove l'Udinese sta vincendo per 1 a 0 intanto è piede a martello aia qui rischia qui rischia l'espulsione te lo dico qui rischia l'espulsione se se la vanno a rivedere al VAR qui rischia anche il cartellino rosso qui lo veramente lo salva e lo grazia abisso calcio di punizione per la Juve tutti dentro a saltare tutti sulla linea dell'area di rigore avversaria in questa cosa la palla viene scaraventata sul palo più lontano dove c'era Bremer che viene anticipato messa fuori la palla addirittura in fallo laterale sul versante Mancino Nicolussi Caviglia la insegue e va a battere questa tush sulla linea mediana di campo praticamente ora l'Udinese è tutta dietro alla linea del pallone nei propri 40 metri schiacciata a difesa di questo 1 a 0 che avrebbe sarebbe importantissimo soprattutto per la zona salvezza e garantirebbe ossigeno puro per la formazione di Gabriele Cioffi ora qui sbaglia effettivamente ancora sul settore di destra non Geboende che si era fatto vedere ora serie di batti e ribatti tanta confusione e le squadre si sono allungate ormai si gioca solamente per forza di inerzia si fa vedere addirittura Bremer sul lato corto dell'area di rigore prova ad assaltare addirittura il nuovo entrato Ebozele che mette il pallone in calcio d'angolo e allora Corner che si è guadagnato di ignoranza possiamo dire ovviamente sportiva Gleason Bremer e allora seguiamo questa palla inattiva con Nicolussi Caviglia che si incarica di questo spievente in area di rigore ormai tutti dentro a saltare forse rimane indietro solamente Scesni parte lo spievente colpo di testa la palla rimane lì colpo di testa però strozzato da parte di Weston McKennie palla che finisce sul fondo 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara il signor Abisso e coadiuato dagli assistenti vecchi e mastrodonato e come vi dicevo il quarto uomo il signor Giuwa che quindi ha fatto vedere la lavagnetta luminosa e si giocherà fino al minuto numero 94 sul cronometro 1-0 ancora per Ludinese che clamorosamente sta vincendo allo Juventus Stadium sembra quasi una barzelletta ma due sconfitte consecutive per la Juve con lo stesso risultato prima con l'Inter e poi con la Juventus in caso si dovesse concretizzare appunto questa sconfitta e questo segno 2 in campo tra Juve e Udinese non vorrei essere acciughina stasera godo come un gambero dice il papero bravo Marco Inter raccomandata a Npenzi penso che sia una minchiata ragazzi l'Inter è molto solida io non sono per questi complottismi inutili visto che il VAR sbaglia da una parte sbaglia dall'altra ora ha sbagliato più per l'Inter l'anno scorso sbagliò più per il Milan e per poco non perde lo scudetto anzi due anni fa per il Milan l'anno scorso per il Napoli ci fu qualche qualche situazione strana tutte le squadre cioè tutto il VAR tutto il mondo del pallone e gli arbitri sbagliano non solo con l'Inter anche con la Juve con il Milan quindi andiamo a parlare del nulla più totale qui parliamo di tifosi e comunque ci confrontiamo ognuno è giusto che di cala sua intanto attenzione qui fallo sulla ripartenza dell'Udinese che aveva recuperato il pallone da parte di Nicolussi Caviglia che stende all'altezza della linea mediana di campo praticamente se non ho visto male si trattava di Wallace andiamo a vedere no comunque qui probabilmente c'era fallo no non c'era fallo su Weston McKennie gli Juventini non sanno più che inventare i rosiconi dell'Inter quest'anno è la più forte in Serie A dice Anso Malla poi non sono d'accordo col VAR non si deve sbagliare ma sono d'accordo Walter attenzione mi trovi concorde concorde con te il VAR non deve sbagliare deve essere utilizzato al meglio tanto bravi che state entrando sul gruppo di Telegram bravissimi mi raccomando perché alla fine della partita ci saranno tutti i golli e gli highlights e vi ricordo che a fine mese ci sarà un giveaway sul gruppo di Telegram Fantawalk e poi seguitemi anche su Instagram mi chiamo Walk of Sport mi trovate benissimo andrò a ringraziare anche tutti i nuovi follower di Instagram se mi andate a seguire grazie a Fabio Diottrice di Torrice scusatemi per il nuovo follower su Instagram in questo momento l'avevo già ringraziato però se vi iscrivete avete la possibilità di vincere la maglietta della squadra del vostro cuore personalizzata a fine mese con il giveaway che faremo solo con i ragazzi presenti nel gruppo di Telegram Fantawalk dove appunto alla fine di ogni partita noi andiamo a caricare tutti i golli e gli highlights e vedrete tutto quello che succede nel campionato di Serie A mi raccomando quindi lasciate like e iscrivetevi se siete appassionati anche di Fantacalcio perché il nostro è un canale di Fantacalcio e consigli live di Fantacalcio e non solo con i post e con gli indici di schierabilità le probabili formazioni tutti i weekend giovedì o venerdì noi prima delle partite facciamo anche i video facciamo uscire su YouTube con i miei indici di schierabilità e appunto andiamo ad analizzare partita per partita con tanto di analisi arbitri e non solo anche pronostici detto questo riprendiamo la nostra cronaca perché mancano 30 secondi alla fine della partita e la Juventus prova a guadagnarsi e a ritrovare il pallone niente da fare perché l'Udinese ci prova con questa conclusione da lontanissimo alta sopra la traversa qui poteva tenere il pallone proprio Lovric invece tenta un tiro improbabile e permette l'ultima azione alla Juventus mancano 20 secondi probabilmente si giocherà per altri 30 secondi aggiuntivi Abisso guardiamo se farà cioè andrà ancora con il fischietto in bocca subito al minuto numero 94 oppure no intanto attenzione perché riparte in contropiede l'Udinese va a terra un giocatore della formazione friulana su contrasto con Bremer e si guadagna un gran calcio di punizione con ossigeno cioè grande qui giocata della formazione friulana se non ho visto male con Juan Perez il Diz in ripiegamento lo mette giù lo stende e proprio il difensore braccetto di destra argentino va a conquistarsi un fallo importantissimo per l'economia della partita probabilmente in questo momento anzi probabilmente si andrà con il triplice fischio alla fine di questo calcio di punizione guardiamo se effettivamente sarà così ora tiene il pallone l'udinese sul settore di destra lato corto prova Gleason Bremer ad andare a sradicare il pallone ai danni proprio di Ferreira che intanto si era portato vicino alla bandierina e poi la rimessa laterale ancora per la Juve quando siamo a 94.40 sul cronometro si gioca ancora lancio dell'Avemaria sul cerchio centrale di centrocampo il colpo di testa di Wallace a spazzare via ancora la recupera però la formazione bianconera di casa con Adrian Rabiot addirittura nella propria metà campo lancio ancora sulla tre quarti a cercare il colpo di testa di Arcadius Milik niente da fare la Juventus non riesce a ritrovare il pallone il possesso di palla dell'udinese lancia in profondità proprio Wallace e triplice fischio del direttore di gara fischia 1 fischia 2 e fischia 3 abisso clamoroso allo Juventus Stadium l'udinese riesce a battere la formazione di Massimiliano Allegri e sbanca Torino con questa grandissima prestazione e soprattutto il cortomuso questa sera è da parte di Gabriele Cioffi che batte con questa classica partita ormai che è stata selezionata anzi con questa classica dicitura che è stata selezionata apposta nei meme alla Juventus con il cortomuso come diceva Massimiliano Allegri ma questa sera lo subisce il tecnico livornese il cortomuso da parte dell'udinese che va a praticamente erigere un muro a Torino e va a vincere 1-0 con il gol di Giannetti alla sua prima apparizione stagionale con un gol fortuito in area di rigore su pallina attiva ma tant'è Lautaro Giannetti probabilmente anche il nome ha messo un po' in difficoltà la Juventus Lautaro Giannetti il giocatore argentino che segna e quindi porta tre punti in casa friulana e anche qui ragazzi il campionato per me non vi dico che è finito ma quasi vi faccio vedere anche la classifica aggiornata in questo momento dopo la sconfitta della Juventus che soprattutto per i tifosi juventini non ci voleva perché in questo istante come vedete alle mie spalle la formazione nera-azzurra se ne va e allora i tifosi interisti potrebbero cantare tranquillamente la capolista se ne va e a maggior ragione se il 28 di febbraio l'Inter dovesse vincere con l'Atalanta nel recupero della ventunesima giornata a causa Supercoppa perché in questo momento la Juventus è a 7 punti dall'Inter che potrebbero diventare 10 quindi virtualmente l'Inter è capolista a 10 punti dalla Juventus che attenzione ora sente anche il fiato sul collo del Milan che è riuscita a vincere domenica contro il Napoli in una partita anche lì decisa da un difensore Teo Hernandez di Cortomuso anche la formazione allenata da Stefano Pioli e quindi occhio perché il Milan con la quarta vittoria nelle ultime 5 tallona la Juventus 52 punti a 53 e occhio comunque anche all'Atalanta che nonostante tutto è in una striscia positiva da 5 partite con 4 vittorie nelle ultime 4 e di conseguenza la Dea la squadra di Giampiero Gasperini può fare veramente molto male e può rimanere lì in quarta posizione anche se avrà come vi dicevo un recupero importante contro la formazione nero-azzurra e a questo punto la Juve il 28 tiferà la formazione di Giampiero Gasperini ma in primis deve pensare a se stessa perché la Juve questa Juve di stasera non va da nessuna parte non arriva neanche seconda rimane in Champions League rimane tra le prime 4 solamente perché appunto le squadre come Atalanta Bologna Roma Fiorentina Lazio eccetera sono lontanissime altrimenti qui la Juventus ha avuto un calo vistoso nelle ultime due dopo il derby d'Italia dopo la sconfitta di stasera ha avuto un calo vistoso sembrava non avere punti di riferimento lì davanti senza Dusan Blaovic che è stato tenuto fuori causa appunto fastidio muscolare e questo però diciamo è costato tantissimo alla formazione di Massimiliano Allegri perché come vedete arriva la seconda sconfitta consecutiva per la formazione bianconera e quindi purtroppo per i tifosi juventini altra sconfitta importante sogni di gloria sogni di scudetto che vengono allontanati proprio da un'altra bestia nera possiamo dire così negli ultimi anni cioè l'Udinese a livello sportivo ragazzi la formazione friulana è sempre stata molto pericolosa storicamente proprio contro la Juventus perché se vado a prendere proprio tutti i precedenti poi io ragazzi tra pochino vi saluto perché devo avere cioè vado a fare l'asta di riparazione per quanto riguarda Fanta Starks e ragazzi io staccherò qui la live e magari la riprendo su TikTok se siamo arrivati ai like richiesti su YouTube mi raccomando lasciate i like perché siamo quasi arrivati a 100 a 100 like sosteneteci e soprattutto siamo quasi arrivati a 29.300 quindi se volete mercoledì Lazio Bayern in live reaction e se volete giovedì tutte le altre squadre italiane in Europa League ragazzi iscrivetevi ed entrate nel nostro gruppo di Telegram perché per tutti i nuovi gruppi cioè per tutti i nuovi che stanno entrando nel gruppo di Telegram vi ricordo che potrete vedere tutti gli highlights e quello che è successo stasera in Juve Udinese alla fine della partita quindi tra una ventina di minuti noi carichiamo tutti gli episodi e carichiamo tutti i gol quindi entrateci parliamo lì in quel gruppo di Fanta Calcio di Calcio Mercato sapete quando ci sono gli infortuni e quando rientreranno i giocatori in più sapete quando siamo live quando escono i video di Fanta Calcio e di consigli di Fanta Calcio e i pronostici ci sono tanti Fanta Allenatori ragazzi ci divertiamo tantissimo gruppo Fanta Walk link in bio se siete su TikTok link in chat qui sotto se siete invece su YouTube quindi vi consiglio di entrare vivamente perché ci divertiamo e perché siete in tantissimi e soprattutto i Fanta Allenatori ragazzi vedono quello che fanno i loro beniamini ok vedono i loro ragazzi i loro giocatori quindi possono anche essere lì a scrivere e a dire la loro detto questo di nuovo ve lo ripeto sempre perché soprattutto per chi non ha Sky o Dazon possono vedere i gol e gli highlights a fine partita quindi ragazzi se volete sapete come entrare parlando del finale di partita e parlando di questa Juventus come vi dicevo occhio perché la Juve nelle ultime partite ha sempre fatto bene con l'Udinese ma storicamente la formazione friulana ha sempre lasciato dei grossi grattacapi nelle ultime quattro sono state quattro le vittorie della Juventus tutte per con un punteggio abbastanza importante 3 a 0 nella gara d'andata poi 1 a 0 1 a 0 nel 2022 e poi il 2 a 0 nella stagione 21-22 cioè quindi nel 2021 poi ci sono stati pareggi e sconfitte 2 a 2 sempre in serie A un 2 a 1 nella stagione 19-20 per l'Udinese e comunque è una formazione molto ostica che soprattutto fuori casa anzi in casa per la Juve dà tanto da pensare ok e quindi tante volte dà dei grattacapi non indifferenti alla difesa Juventina stasera Bremer Alexandro e anche lo stesso Gatti non performanti probabilmente mancava un super giocatore un super difensore come Danilo ma questa non è la scusa e non è diciamo una scusa plausibile per questa sconfitta che arriva anche meritatamente nonostante tutto perché l'Udinese comunque ha fatto una discreta partita ha cercato di fare di ripartire in contropiede e questo è stato il risultato finale con una formazione quella allenata da Gabriele Cioffi molto attenta in qualsiasi situazione soprattutto a livello difensivo e quindi questo è quanto la classifica la vedete alle mie spalle e grazie intanto a chi sta entrando nel gruppo di Telegram ragazzi bravissimi vi dico a tutti chi entra nel gruppo di Telegram non esca poi ma silenzi il gruppo silenziate il gruppo in alto a destra ci sono tre puntini in verticale ci cliccate e fate silenzio se non volete ricevere le notifiche perché vi dico questo perché se uscite dal gruppo di Telegram c'è un bot lì dentro che vi blocca e vi banna per 4-5 mesi quindi per 4-5 mesi dopo non ci potrete più rientrare e poi non mi venite a chiedere su Instagram in direct o su Telegram in privato di non di essere rimessi dentro perché io purtroppo ragazzi poi non posso fare niente perché c'è questo bot apposta che è lì per cercare di evitare l'entraesci in modo da non far caos perché magari la gente chiacchiera ci sono gli highlights con la fine partita parliamo di fantacalcio e quindi la gente non vuole che gli rompiamo le scatole mentre parla di conseguenza vi dico entrateci e silenziate nel gruppo perché altrimenti poi c'è il bot che vi blocca poi non mi cerca cioè nel senso poi potete fare ciò che vi pare però consapevoli che venite bloccati quindi non potete rientrare subito dovete rientrare dopo diversi mesi allora Sium intanto JB Riccardo la Juve ha fatto un ottimo assist all'Inter ora potrà giocarsi la Champions con più serenità è crollata dice Angelo su quello sono d'accordo ha fatto un bel assist la Juve stasera all'Inter perché doveva anche questo comunque a livello mentale ti dico e vi dico a tutti che secondo me la Juve l'ha accusata tantissimo la vittoria dell'Inter contro la Roma secondo me se la Roma avesse vinto e fosse riuscita a battere la formazione nera azzurra in casa stasera avremmo visto un'altra Juventus ne sono quasi sicuro c'è da dire che l'Inter si stancherà in Champions contro il grande atletico sì Carolina ma non questa domenica cioè non questo mercoledì perché un mercoledì la prima italiana sarà la Lazio contro il Bayern Monaco l'Inter giocherà se non ricordo male la prossima settimana con il Napo con con la Lazio scusatemi l'Inter con l'Inter con il Napoli ok Napoli e l'Inter giocheranno martedì e mercoledì prossimo contro rispettivamente Barcellona e il Napoli e Atletico Madrid l'Inter quindi due spagnole per due italiane guardiamo come andrà a finire speriamo bene sicuramente il Barcellona non è il solito Barcellona di qualche anno fa il Napoli potrà dire la sua ma non è una partita semplicissima quindi seguiamo anche la Lazio mercoledì questo di questa settimana contro il Bayern Monaco che è secondo vi ricordo in Bundesliga perché primo è il Bayern Leverkusen bellissimo campionato Bayern Leverkusen che ha battuto proprio il Bayern Monaco 3 a 0 nel derby tra i Bayern possiamo dire così proprio anzi 1 è Bayern 1 è Bayern però ha battuto 3 a 0 proprio nella speciale partita e nel big match della scorsa giornata cioè di questa giornata proprio il Bayern Monaco che rimane secondo a meno 5 da Bayern Leverkusen quindi anche questo sicuramente non agevolerà la formazione allenata da Maurizio Sarri che troverà davanti un avversario tosto è un avversario agguerrito un avversario che arriva da una sconfitta e quindi la Lazio speriamo quanto meno che allo stadio olimpico visto che si gioca a Roma la gara d'andata speriamo quanto meno che possa fare il risultato e noi mercoledì sera alle ore 21 la porteremo live quindi vi consigliamo di iscrivervi al canale attivando la campanella ed iscrivendovi e dandoci una mano proprio con le notifiche attive perché vi ricordo se siete su YouTube andate ad iscrivervi ma andate anche a mettere la campanella attiva sull'iscrizione cioè a tutte quando toccate la campanella avete le notifiche e vi dice tutte le notifiche nessuna notifica o in maniera random mettete la campanella piena quella con appunto la campanella attiva in modo da avere tutte le notifiche già pronte attive quando escono video dei consigli di fantacalcio quando escono le nostre live reaction e quindi potete essere i primi a correre proprio sul canale e poi ragazzi mi raccomando ci date una mano perché quando vi arrivano le notifiche voi sapete quando siamo in diretta e quando ci sono i video e di conseguenza YouTube vi avverte ok quindi attivate le notifiche stesso discorso per i ragazzi di TikTok ok ragazzi allora andiamo a leggere gli ultimi commenti e poi devo staccare per andare a fare l'asta di riparazione per quanto riguarda il fantacalcio andiamo a vedere anche l'Udinese che Balzo fa in avanti ovviamente tra gli ultimi posti tra le ultime posizioni come vedete la formazione friulana allenata da Gabriele Cioffi Balzo da 19 punti a 22 andando a scavalcare in un solo colpo Empoli, Sassuolo e Verona e andandosi a posizionare in una zona possiamo dire tranquilla anche se di tranquillo c'è poco perché sei in mezzo alle sabbie mobili ma quantomeno esci dalla zona rossa dalla zona retrocessione dove per il momento ci sono Verona, Cagliare e Salernitana che rimane in questo momento il fanalino di coda del nostro campionato e vi ricordo che proprio qualche ora fa anzi ieri è stato esonerato Pippo Inzaghi che già dopo la sconfitta di domenica contro l'Empoli in casa era stato cioè lo sapevamo ci avevano già avvertito e il suo sostituto è Fabio Liverani che arriva cercando di salvare il salvabile anche se sarà difficilissimo ragazzi perché sono già stati esonerati due allenatori Paolo Sosa all'inizio della stagione all'ottava giornata e Filippo Inzaghi appunto domenica ora per la 24esima ed entra subentra anzi al suo posto proprio Fabio Liverani grazie a Tommaso Bertuzzi intanto per il follower su TikTok l'interruba Elvira e vabbè ragazzi io vi dico queste cose non mi piacciono e voi continuate a dire in questa maniera cioè confrontatevi e argomentate il vostro discorso Elvira perché l'interruba dimmelo cioè argomentami il tuo discorso sono curioso perché alcune volte vi piace fare solamente polemica senza neanche argomentare poi e io sono tifoso della Fiorentina ragazzi quindi non ho nessun non avrei nessun motivo per dire una frase del genere ma mi stanno proprio sulle palle certi tipi di commenti argomentateli cioè dite per quale motivo l'interruba perché non lo so perché Nico González ha sbagliato il rigore faccio un esempio non lo so però argomentatelo il discorso ok walk Juve o Milan per il secondo posto ma ti dico la verità questo Milan mi piace per il secondo posto e secondo me a livello di squadra è più organizzante più profonda la rosa del Milan ha più ricambi dopo il mercato di riparazione la Juve mi sembra un pochino cioè stasera sono entrati tanti giovani non Geboendè è entrato Nicolussi Caviglia cioè è entrato il Diz che non ha inciso cioè mi sembra che ogni tanto la Juve senza titolari tipo Danilo tipo Kostic tipo Vlaovic faccia fatica il Milan invece sostituisce Kier con Gabbia che ne so Gabbia cioè ora rientra Tomori quindi la linea difensiva del Milan secondo me rincomincerà a riprendersi in attacco comunque ci sono Giroud c'è anche Jovic e Okafor che secondo me sono in questo momento molto più abili sotto porta rispetto a Milik e rispetto anche a che ne so un un Moise Ken c'è da dire un centrocampo la Juve ha un buon centrocampo ma quello del Milan è devastante soprattutto sugli esterni Leao Pulisic e comunque Reinders Love to Sheik Adli nonostante tutto sta facendo bene ci sono ricambi come Ben Nasser quindi il Milan secondo me ha più profondità di rosa quindi se penso da qui alla fine del campionato il secondo posto se lo giocano fino in fondo e il Milan può spuntarla alla fine però come vedete anche dalla classifica e dalla grafica alle mie spalle la Juventus è la seconda miglior difesa del campionato quindi se riesce a prendere pochi gol da qui alla fine della stagione potrebbe comunque mantenere una posizione privilegiata ok possiamo dire così però non deve prendere gol ma le deve anche segnare perché come vedete ragazzi ha 36 reti come la Fiorentina cioè 36 reti segnate la Juve quindi vuol dire che a livello di finalizzazione hai qualche problema cioè non trovi la via del gol in maniera troppo semplice ecco possiamo dire così perché la Fiorentina effettivamente a parte 5 gol che ha segnato al Frosinone tutti insieme non è una squadra che a livello offensivo faccia si faccia strappare cioè faccia strappare i capelli ai tifosi del calcio in generale e se ne va la capolista se ne va dice Claudio corsa scudetto riaperta o pensi che non ci sia storia no Mike ma io lo dico già da due settimane io ho detto che la la corsa scudetto per me era conclusa la Juventus darà filo da torcere fino in fondo all'Inter se riesce a rimanere attaccata se non riesce a rimanere attaccata ragazzi è difficile cioè domenica prossima la Juventus gioca contro il Verona senza Bremer squalificato che è stato ammonito stasera e come Danilo quest'oggi perde un'altra pidina fondamentale in linea difensiva ok e quindi rigiocherà Alessandro probabilmente o Rugani guardiamo potrebbe anche fare l'esordio il nuovo arrivo perché c'è appunto il nuovo arrivo non mi ricordo mai come si chiama ragazzi Giallo Giallo ecco mi è venuto e quindi occhio a questo aspetto perché il Verona deve fare punti salvezza deve cercare di vincere deve cercare quantomeno di imbrigliare la Juventus proprio perché si trova terz'ultima se la Juve comunque dovesse battere il Verona domenica prossima e l'Inter dovesse perdere con la Salernitana a San Siro non credo però dovesse perdere ragazzi allora potrebbe di nuovo riaprirsi in parte il campionato anche se virtualmente ragazzi in questo momento l'Inter è a 10 punti dalla Juve perché se dovesse cioè in caso di vittoria contro l'Udinese il 28 febbraio nel recupero della 21esima giornata ragazzi è normale che l'Inter avanza di 3 punti e la riprendi veramente male allora ciao Azir benvenuto in live il Milan ha un problema di preparazione atletica non è possibile che a giro si sono rotti tutti ora Calabria se devo fare una critica è questa Angelo su quello sono d'accordo è vero anche Calabria ora si è rotto e starà fuori credo 2-3 settimane guardiamo che cosa succederà c'è da dire che l'Inter si stankerà in Champions contro il grande atletico è quello ci sta ragazzi perché quando ci sono le coppe può succedere veramente di tutto io ragazzi devo andare a fare l'asta di riparazione perché alle 23 ci troviamo con gli altri ragazzi io intanto vi consiglio di entrare nel nostro gruppo di Telegram dove già vedo tanto movimento dove andate a parlare soprattutto dove potete vedere tutti i gol e gli highlights a fine partita per chi quindi sta entrando ragazzi tra poco vi metterò prima il gol di Giannetti e poi vi metterò tutti gli highlights a fine di fine partita vi metterò quando usciranno su Sky e Dazon appunto vi andrò a mettere tutto quello che è successo a Torino e ve lo ricordo che noi lo mettiamo sempre sul nostro gruppo di Telegram che si chiama Fanta Walk a fine partita così almeno potrete rivedere tutto quello che è successo lo potete analizzare o lo potete commentare sul profilo sul gruppo di Telegram e in più lì potete parlare di Fanta Calcio consigli di Fanta Calcio mandare le vostre formazioni e essere aiutati ogni weekend ok quindi vi consiglio vivamente di entrarci consiglio a tutti anche di iscrivervi se siete su YouTube mi raccomando ragazzi iscrivetevi perché siamo quasi arrivati a 29.300 e vi ringrazio veramente per il vostro sostegno su TikTok siamo arrivati a 10.718 quindi grazie veramente anche a tutti voi e questa è la classifica alle mie spalle io ragazzi vi saluto vi saluto con appunto una domanda che voglio vedere in chat perché poi vi lascerò due minuti la musica e poi stacco questo campionato è davvero finito cioè l'Inter ormai ha vinto lo scudetto oppure una tra Juve e Milan si può riproporre si può ripresentare può essere la Nemesi di questa Inter ormai possiamo dire imprendibile o comunque forte a livello di Rosa scrivetemi in chat ragazzi io vi saluto vi do la buonanotte vi do un buon inizio di settimana vi ringrazio per essere stati con noi vi ringrazio a tutti per averci followato grazie quindi per appunto per le iscrizioni grazie a per chi ha attivato la campanella grazie per chi mi seguirà anche su Instagram vi ricordo walk of sport il link lo trovate in bio ve lo metto se siete su in chat su YouTube ve lo metto vi metto telegram e vi metto Instagram se invece siete su TikTok ragazzi i link dei tutti i social le trovate in bio trovate anche Instagram walk of sport perché lì facciamo post anche di fantacalcio quindi vi consiglio di venirci a seguire e vi consiglio di venire perché mi potete anche chiedere consigli di fantacalcio in direct quindi walk of sport su Instagram entrate sul gruppo di telegram non ve lo ripeto più per gli highlights per il fantacalcio bla 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 scusate se lo ripeto sempre ma io so cioè so per certo che spesso e volentieri c'è tanti ci sono tante persone nuove che entrano tutte le volte qui in chat qui in live e di conseguenza lo ripeto ok quindi se vi volete andare a vedere tutti i gol di stasera e anche delle partite scorse perché noi tutti i weekend le mettiamo c'è il gruppo di telegram fanta walk ok con l'Atalanta sì che è finito dice Pisdan non lo so l'Inter sta dimostrando molto credo che forse finirà come il Napoli nel campionato scorso addirittura pensi che ci possa essere una tanti punti di di differenza ci sta guardiamo guardiamo ragazzi io vi ringrazio ancora per essere stati con noi vi consiglio di condividere comunque il nostro canale walk of sport con tutti i vostri amici o con chi è appassionato di partite di live reaction e con chi è appassionato di fanta calcio mi raccomando fanta allenatori lasciate like condividete la live e appunto lasciateci il vostro sostegno grazie a tutti per gli abbonamenti per le donazioni voglio ringraziare Roblox Emao Sasi Ragno Vincenzo Gian Santi e anche AC Marcello per tutte le donazioni su TikTok e voglio ringraziare tutti i nuovi follower e i nuovi abbonati su YouTube ringrazio su tutti il nostro Maktar per la Resab proprio su YouTube vi ricordo che l'abbonamento lo potete fare con 99 centesimi al costo di un caffè al mese e potete avere tanti vantaggi oppure potete fare qualsiasi tipo di abbonamento su Twitch con Amazon Prime lo potete collegare e appunto fare l'abbonamento e darci una mano e farci crescere su TikTok l'abbonamento è a 3,99 e ci saranno dei grossi vantaggi soprattutto in futuro non tanto adesso in questo mese mese e mezzo ma tra 2-3 mesi noi ragazzi faremo uscire video consigli di fantacalcio solamente per degli abbonati live solo per abbonati di fantacalcio e consigli di fantacalcio e faremo uscire anche dei post e dei video solo per abbonati per andarvi a prendere determinati tipi di giocatori per la nuova stagione che verrà quindi per la stagione 24-25 al fantacalcio mi raccomando noi inizieremo molto presto inizieremo per maggio-giugno per quando ci saranno gli europei inizieremo a studiare la nuova stagione quando ancora non sarà finito il campionato quindi vi consiglio a tutti voi se siete su TikTok di fare l'abbonamento a 3,99 anche lì avete tanti vantaggi tra cui anche gli indici di schierabilità di fantalab che potete riscattare direttamente con l'app oppure direttamente su fantalab ok ragazzi io vi ringrazio ancora a tutti scusate se mi sono dilungato e prolungato con le chiacchiere vado a fare l'asta di riparazione i ragazzi i nostri ragazzi ci stanno aspettando vi saluto e vi ringrazio ancora per essere stati con noi da World Cup Sport è tutto per questa serata l'udinese batte la Juventus di Cortomuso 1-0 con i gol di Giannetti al 25esimo di prima frazione la Juve quindi è costretta a capitolare in casa e di conseguenza come vedete la classifica è Inter 60 Juve 53 Milan 52 buonanotte a tutti ragazzi e grazie per essere stati con noi ciao ragazzi e grazie di cuore a tutti coloro che stanno continuando a lasciare like ed iscriversi buonanotte e come sempre viva la 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 Grazie a tutti